Buongiorno a tutti, benvenuti a questa nuova giornata di festival e benvenuti a questa nuova giornata di conferenze stampa. Partiamo subito in questo martedì 30 novembre con la presentazione del progetto Piemonte Factory. Abbiamo qui con noi al tavolo il regista Daniele Gaglianone, in questo caso in veste di direttore artistico del progetto, Alessandro Gaido, presidente di Piemonte Movie e curatore del progetto, Paolo Manera, direttore di Film Commission Torino-Piemonte e Domenico De Gaetano, direttore del Museo Nazionale del Cinema. Benvenuti. Allora, questa mattina siamo qui per raccontare un'iniziativa che dimostra l'ottimo livello di collaborazione tra le varie istituzioni culturali torinesi. Infatti Piemonte Factory, che trova una valida guida artistica in Daniele Gaglianone, che lo ricordiamo è uno dei registi più affermati, dei registi torinesi più affermati, che ha visto i suoi film passare nei più prestigiosi festival internazionali e che tra l'altro, lo voglio ricordare, è una scoperta proprio del Torino Film Festival, grazie al lavoro fatto in sinergia proprio da Film Commission Torino-Piemonte, Piemonte Movie e dal Museo Nazionale del Cinema, sta diventando quello che potremmo dire un vero e proprio incubatore di nuovi talenti. Un incubatore che però non è un incubatore qualunque perché ha una caratteristica molto particolare, quella di essere fortemente radicata al territorio. Si tratta infatti di un film lab contest riservato ai filmmaker under 30 e adesso ce ne parleranno i protagonisti di questa iniziativa, che ha permesso di sviluppare i lavori di questi giovani autori emergenti proprio in varie località del Piemonte. Ecco, come festival ci teniamo a sottolineare che siamo molto felici che questa iniziativa in qualche modo faccia parte del programma del nostro festival, se non sbaglio questa sera saranno proiettati, questo pomeriggio saranno proiettati proprio i lavori dei giovani autori e l'ultimo giorno ci sarà anche una premiazione, se non vado errata, e quindi io adesso passerei subito la parola appunto alle persone che hanno dato forma a questa iniziativa perché ci illustrino più nel dettaglio qual è stato il percorso proprio di questo progetto. Io forse comincerei dando la parola al direttore del Museo Nazionale del Cinema, padrone di casa certamente. Iniziamo da qua, insomma, dal Museo Nazionale del Cina, che è un po' la casa dei festival torinesi, ne organizza alcuni, altri comunque vengono realizzati al Cinema Massimo, però è importante collaborare con tutte, naturalmente, le associazioni, le istituzioni, le strutture del territorio per cercare di sviluppare sotto tutti i punti di vista, naturalmente, il cinema a Torino e il cinema in Piemonte. E quindi è un grande piacere, insomma, che ospitiamo la parte finale, oserei dire, insomma, di questa iniziativa che troviamo comunque molto interessante perché lega naturalmente il territorio della regione Piemonte a quella che è poi la città di Torino e soprattutto con la Molla Antonelliana e col Cinema Massimo, ospitando quindi all'interno del Torino Film Festival la selezione finale, insomma, i prodotti che sono stati realizzati. Insomma, di fronte un direttore artistico, così è chiaro che, insomma, ci siamo subito inchinati e abbiamo subito detto, certo, collaboriamo assolutamente, non possiamo tirarci indietro in alcun modo. Poi, insomma, con Alessandro comunque abbiamo anche diversi altri progetti insieme, per cui credo che sia con la Film Commission, con cui oramai siamo praticamente fratelli diversi in qualche modo, gemelli diversi, eccetera, e con le altre istituzioni, credo che sia importante creare queste sinergie e Piemonte e Fattori, credo su questo che Alessandro Gaedo abbia fatto un ottimo lavoro e si è riuscito a mettere insieme effettivamente le maggiori istituzioni del Piemonte e soprattutto, importante, la scoperta dei giovani talenti perché il cinema va avanti soprattutto grazie a loro. Basta, ho già parlato troppo. Paolo Manera, direi che può illustrarci anche il tuo punto di vista. Si sente? Scusate che con la mascherina c'è sempre... Proseguo su questa linea di ragionamento che è quello della collaborazione e di un percorso che tenga insieme nuovi talenti ma anche la dimensione del territorio, del luogo. Con l'associazione Piemonte Movie il percorso di collaborazione è lungo, è da tanto tempo che Piemonte Movie e Film Commission Torino Piemonte sviluppano progetti. Se posso provare una sintesi un po' brutale, in partenza Piemonte Movie ha rappresentato una vetrina del cinema made in Piemonte. Molte cose... L'approfondimento perché il Torino Film Festival ha sempre avuto una parte forte di cinema realizzato in Piemonte. Però Piemonte Movie ha rappresentato un andare più in profondità nel territorio e nei temi, negli omaggi a delle persone, dei percorsi. Quindi fase 1 un po' vetrina. Fase 2 ho visto e in qualche modo ho stimolato questo, una fase di presidio diffuso sul territorio. Piemonte Movie ha voluto dire una serie di luoghi e di proiezioni. Ovvio citare il percorso Movie Tellers che ha rappresentato una collaborazione forte per fare in modo di creare un vero e proprio circuito diffuso focalizzato sul cinema made in Piemonte. E l'idea è stata quella che non fosse soltanto connotato sui titoli più noti, ma fosse specificamente i titoli più noti con una ulteriore necessità di visibilità, i cortometraggi, i documentari, l'animazione, i nuovi talenti. Fase 3 con Torino Factory e poi Piemonte Factory questa dimensione del laboratorio, dell'officina, lasciatemi dire, officina in cui si costruisce il nuovo cinema. Quindi per noi ovviamente è un'esperienza importantissima, ancora più importante se c'è una circolazione costante con il Torino Festival come punto e poi con un ritorno nei territori nei prossimi mesi. Forse ti ho già bruciato un po' di cose, però volevo dire volevo dire appunto quanto importante è ringraziare tutte le persone che hanno lavorato nelle varie fasi insieme ad Alessandro, insieme a Daniele, insieme a Davide Bracco, insieme a tutti quelli che hanno lavorato a sviluppare nei mesi quelli che oggi vediamo per la prima volta in sala. Grazie. Alessandro Gaido, appunto, ricordiamo, presidente di Piemonte Movie e curatore del progetto. Io forse partirei proprio dalla cosa che diceva Paolo Manera. C'è il vostro un lavoro sul territorio fatto in tanti anni, per cui come si lega questo altro nuovo progetto a questo lavoro che dura da anni? Ma questo progetto qua, come ha sottolineato bene Paolo, è la fase finale, non direi perché si è sempre in evoluzione, però sicuramente quella che va a completare un percorso iniziato sul territorio tanti anni fa. Il nostro primo presidio cinematografico locale in Piemonte risale al 2010, venne fatto Kerasco. Attualmente ne abbiamo, con tutte le problematiche ovviamente legate alla pandemia che li ha tenuti un po' in stand by, però abbiamo 40 contatti sul territorio che si sono sviluppati molto, 40 altri presidi sul territorio che si sono sviluppati molto collegati anche al progetto Movie Tellers. E Movie Tellers, Paolo non l'ha citato perché giustamente ha concentrato il tutto, però Movie Tellers è stato un progetto che ha voluto lavorare non solo con i territori come Kerasco, dove si proiettava anche al di fuori di una sala cinematografica, invece Movie Tellers aveva la grande forza, e speriamo di poterlo ripetere, di andare a lavorare con le sale cinematografiche. E' un progetto di profondità realizzato con 27 sale cinematografiche del Piemonte. Mancava una fase laboratoriale che è nata nel 2018 con Torino Factory ed era concentrata sui quartieri di Torino, crediamo che questa sia la giusta evoluzione, quella piemontese, che è quella poi che sottolinea la nostra filosofia come associazione, cioè la promozione del cinema realizzato in Piemonte, quindi direi che andiamo a completare questo quadro. E' una prima edizione, noi siamo molto contenti dei lavori che sono stati fatti e soprattutto del modo in cui si è lavorato. Lo sottolineerà poi maggiormente Daniele, ma è il principio base che ci piace molto, quello di mettere insieme i nuovi talenti emergenti e i tutor costituiti da, in questo caso, nove professionisti che lavorano da sempre sul nostro territorio regionale e che hanno contribuito a uno scambio continuo di ragionamenti e visioni del cinema con gli autori. Crediamo che proprio questa trasmissione di sapere, che si trasforma poi molte volte anche in amicizia e quindi in possibilità di sviluppi anche di ulteriori progetti futuri sia la chiave di volta dell'intero progetto. Chiudo e poi lascio la parola a Daniele, appunto ho detto nove e non otto. Il nostro progetto è sempre giocato anche come claim, insomma, sull'otto già nei quartieri, siamo stati fortunati così non abbiamo dovuto rifare troppo la grafica che otto sono anche le province. In realtà abbiamo giunto quest'anno un lavoro, noi da sempre ci muoviamo, grazie anche proprio all'accordo con Film Commission nella promozione dei documentari, e ci terremo quindi ogni anno un lavoro extra nel caso in cui il documentario non rientri negli otto selezionati che vanno a lavorare come residenze cinematografiche, ognuno in un capoluogo di provincia sostanzialmente. Se artisticamente vediamo che non rientra il documentario in quell'ambito, metteremo sempre un extra per dare spazio ai documentari. Niente, direi che da questo punto... Ah no, una cosa importante che mi sottolineava prima Paolo, ovviamente questa per noi è la fase finale, ma è la prima fase della fase finale del lavoro, è un onore essere qui al Torino Film Festival, e penso che sia un grande onore per tutti quelli che hanno partecipato a poter essere in questa vetrina internazionale, ma noi continueremo nel lavoro di profondità col territorio. Il 23 di gennaio lanceremo l'apertura del tour nel territorio, faremo una replica di tutti i lavori al Cinema Massimo, alla Sala 1, Cabiria del Cinema Massimo, e da lì lanceremo il percorso di due o tre mesi, adesso lo stiamo ancora ovviamente organizzando nei dettagli, che porterà tutti i film, dove ci sarà poi anche appunto il voto del pubblico, nelle province dove hanno lavorato. Sì, si parlava adesso, mi veniva in mente mentre parlavi dello scambio proprio di saperi e di passione, volendo puntare in alto un po' l'idea quella dell'antica bottega rinascimentale, ma volendo proprio puntare... no, però era così. Avere... però è vero, sì. È così. Sì, sì, è vero. C'è ancora Domenico Dechetti? Scusate, io ho una delegazione asiatica nell'archeologico. Benissimo. Ragazzi, è veramente un periodo abbastanza complesso, insomma, per cui mi spiace abbandonarvi, insomma, però insomma siete tra amici, loro sono persone. Comprendiamo. Grazie mille. Grazie, salutiamo il direttore del Museo Nazionale del Cinema e grazie per essere stato qui con noi. Allora, ecco, no, su questa osservazione passerei la parola appunto a Daniele Gaglianone, appunto direttore artistico di questo progetto. Oddio, sì. Va bene, allora parlo... Ma sì, io non posso che ribadire quello che ho appena ascoltato dai miei compagni d'avventura. Che dire, per me, insomma, io prima mi hanno chiesto in un'intervista... Ah, ma tu sei nato col Torino Film Festival. Hai detto, certo, sono nato col Torino Film Festival quando si chiamava Cinema Giovani. E io senza questo festival, forse in un'epoca in cui i film erano difficili da trovare, non è come adesso che appunto voglio vedere un film, che ne so, del cileno dell'anno scorso, vado su internet e lo trovo. E quando eravamo giovani noi, i film o passavano in tv, se quelle poche tv facevano una programmazione intelligente, oppure te le rivedevi al cinema. Quindi il Cinema Giovani prima, il Torino Film Festival dopo, per noi era un'occasione di fare un viaggio non solo nel mondo del cinema, ma proprio nel mondo in generale. Insomma, dopo una giornata dove entravi le 10 di mattina, dove usciva le 2 di notte, eri stato in Corea del Sud, in Argentina, in Nuova Zelanda, in Svezia, in Italia. E quindi sicuramente il ricordo di che cosa significa essere giovani, avere quelle fragilità, quelle incertezze, anche quelle testardaggini tipiche di quell'età che sono necessarie, anche quelle, per carità. Questo pensiero mi accompagna sempre quando, diciamo, in questi anni abbiamo lavorato prima con Torino Factory e con Piemonte Factory. A me piace, insomma, cercare di capire, nei progetti che vengono presentati e che devo, insieme ai miei collaboratori, selezionare, sempre di percepire quel qualcosa che magari in prima battuta non emerge, ma intuire che è dietro quella cosa, magari anche non fatta benissimo, non un po' acerba, però c'è qualcosa che vale la pena di aiutare a crescere. Ogni tanto va bene, ogni tanto va meno bene, nel senso che il nostro è un lavoro dove c'è un margine di rischio, è inutile nasconderlo. Però diciamo che finora sono abbastanza soddisfatto del percorso che abbiamo fatto e devo dire che quest'anno forse è l'anno in cui ci sono i lavori migliori di queste edizioni. Dal mio punto di vista alcuni autori, grazie a questo percorso, hanno fatto un bel salto. Però l'obiettivo è sempre cercare di aiutarli a esprimere al meglio le loro intenzioni, non a vieni qua che adesso ti spiego come si fa. Anche perché se qualcuno a me avesse detto una cosa del genere quando ero giovane me ne andavo. Però non è così scontato, non è facile, perché ci vuole una disponibilità da entrambe le parti. È vero che quando si è giovani i ragazzi si è anche gelosi della propria sensibilità e magari la difendi anche quando non c'è bisogno di difenderla. Però sono cose che magari serviranno come esperienza nel tempo se, come spero, le persone poi continuano a cercare di fare delle cose. Quindi per me è un'occasione per captare l'aria che tira, quello che bolle nella pentola delle nuove generazioni. Sì, magari è facilmente più intercettabile con i social, con tutti i mezzi che ci sono e che quando ero giovanino non c'erano. Però qui è anche un'altra dimensione perché ti devi confrontare con un racconto, con un formato che è sicuramente contaminato dai nuovi linguaggi, del nuovo modo di esprimersi che hanno i ragazzi, che hanno i giovani, ma che comunque ha una dimensione che ha dei paletti, dei punti fermi che sono gli stessi da quando c'è il cinema, insomma. Quindi, insomma, è interessante. Sì, credo che potremmo stare veramente a parlarne per ore, ma vorrei chiedere se ci sono delle domande. Sì, certo, no, 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 no. Io allora, no, vabbè, ho una domanda io per Daniele, nel senso che parlavi del rapporto con i ragazzi, appunto. Il rapporto con la gioventù è in realtà anche uno dei temi forti del tuo cinema, no? E tu in qualche modo senti una continuità tra questa esperienza e la tua esperienza artistica? Ma non ci avevo mai pensato in questi termini, però sì, devo dire che no, in realtà non ci ho mai pensato perché è una cosa abbastanza naturale, perché poi ci sono alcuni lavori, alcuni progetti, quest'anno ma anche negli anni precedenti, dove mi sono molto riconosciuto, mi sono riconosciuto e ho riconosciuto anche qualcosa dei personaggi che ho raccontato, dei personaggi giovani che mi è capitato raccontare nei miei film. Quindi sì, sicuramente una continuità da qualche parte ci deve essere. Volevo dire una cosa, rispetto al discorso di prima della complicità del dialogo, devo ricordare due persone che veramente quest'anno, se non ci fossero state loro, io avrei avuto molte più difficoltà a seguire per tutta una serie di impegni che avevo, che sono Daniele Lince e Elena Beatrice, che hanno veramente fatto un grandissimo lavoro. E c'è stata una grande sintonia fra di noi, per fortuna 99 volte su 100 la pensavamo da stesso modo, e quindi è stato importante per me sapere che anche se io non potevo esserci al 100%, c'era qualcuno che portava avanti le cose nella direzione che avevamo deciso di prendere. Benissimo, grazie, sei stato molto esaustivo in questa spiegazione anche di questo nuovo ruolo e forse appunto volevi fare un'aggiunta Alessandro. Volevo aggiungere, in parte appunto mi ha preceduto Daniele, ringraziando appunto Elena e Daniele, che sono stati fondamentali, un nuovo inserimento nello staff importantissimo, li abbiamo promossi sul campo vice direttori, sono partiti quasi come coordinatori, ma poi il direttore ha detto che potevamo dargli questa medaglia da vice direttori, meritatissima, e volevo ringraziare appunto il resto dello staff, perché ovviamente se non si lavora di squadra non si porta a casa nessun risultato, alcuni di loro sono qua, parto da Roberta Pozza che ha seguito la segreteria insieme a Chiara Pellegrini, Federica Zancato che ha seguito la grafica, Ottavia Isaia che fa parte della segreteria, Maria Paola Giglio che cura l'ufficio stampa, ma ce ne sono tanti altri che insomma hanno fatto sì che questo progetto arrivasse oggi al Torino Film Festival. Benissimo, allora noi dobbiamo purtroppo chiudere, perché come sapete i tempi sono molto tirati, ringraziamo Daniele Gaglianone, Alessandro Gaido e Paolo Manera, e aspettiamo con ansia il prossimo contest, il prossimo anno al Torino Film Festival. Grazie. Allora, buongiorno a tutti, proseguiamo con le nostre conferenze stampa, ricordiamo che siamo sempre in collegamento anche per chi ci segue da casa, sul nostro canale Zoom, insomma sulla nostra piattaforma Zoom, e quindi vi invitiamo a fare delle domande, così come invitiamo anche le persone qui presenti appunto a partecipare alla conversazione, a fare delle domande. Allora, benvenuti alla conferenza stampa di Clara Sola, primo lungometraggio di Nathalie Alvarez-Mesen, presentato in concorso a questo Torino Film Festival numero 39. Allora, al tavolo abbiamo Nathalie Alvarez-Mesen, e la regista appunto, Nima Iusefi, produttore del film, e la nostra Gigliola Viglietti, preziosissima per le traduzioni, che ringraziamo come sempre. Allora, in questa edizione del Torino Film Festival, sono tanti i film che stiamo vedendo, di cui stiamo parlando, che portano sullo schermo storie fortemente al femminile, storie che raccontano rinascite, storie di emancipazione, storie di donne che si liberano, che compiono un percorso di liberazione. Cito tra questi, mi fa molto piacere citarlo, il bellissimo Linghi Lien Sacré, di Mamat Salenarun, che è stato con noi proprio pochi giorni fa. Ecco, io credo che Clara Sola si collochi a pieno titolo tra questi film che rappresentano una riflessione importante proprio sul mondo femminile. e questo film lo fa in maniera particolare, anzi, in una maniera particolarmente originale, mettendo insieme molti elementi, vita, morte, sesso, erotismo, religione, superstizione, immergendoci in un universo, in una dimensione che è allo stesso tempo fortemente legata alla terra, ma anche fortemente spirituale. Ecco, infatti è la storia di una donna che scopre se stessa e il proprio potere proprio attraverso la scoperta del sesso. Ecco, io inizierei proprio da qui, dal cuore di questo film, di questa storia, per chiedere alla regista qual è stato il suo percorso per arrivare appunto alla costruzione di questo film e a questo personaggio. Ciao, ho provato il microfono. Grazie per essere qui. Clara Sola is a journey we have been following with Nima since 2015 and it comes from an interest in my memories as a child of Latin America, a girl of Latin America growing up there and the memory of my, the religious background in my hometown and the unity of it and the good things about it but also the unhealthy norms that they were reproducing and how me and my co-writer Maria Camilaria noticed that the norms of how women should be that were usually very oppressive come a lot from the mothers and grandmothers. So we want to tell the story of a matriarchy reproducing patriarchal norms still. Buongiorno a tutti e grazie per essere qui. Clara Sola rappresenta quello che è un viaggio un viaggio che ho intrapreso con Lima il produttore nel 2015 ed è basato su quella che era la mia intenzione di rivisitare quelli che erano i miei ricordi i ricordi che portavo con me da bambina i ricordi di me bambina nata e cresciuta in parte in America Latina in quelle aree e i ricordi che si fanno e anche le tradizioni le superstizioni quello che era l'ambiente religioso che ha circondato anche la mia crescita all'epoca con tutti quelli che erano i pro e i contro di quel approccio religioso a volte estremo e bigotto e sulle persone sulla personalità dei bambini delle ragazze che erano in crescita e tutto ciò che poteva risultare anche di negativo come una certa aggressività diciamo da parte degli esponenti femminili diciamo della società causata anche da una particolare tipologia di educazione religiosa che veniva applicata quindi praticamente dare un quadro un'immagine di quello che era il matriarcato che però riproduceva esattamente quelli che erano i passi e le fasi di una società patriarcale vuole dire ancora qualcosa prego no I was gonna ask Nima because Nima has a different background but could still experience this e potremmo sentire anche Nima che ha un background diverso e per vedere anche il suo approccio e la sua opinione certo Nima frega sì so I mean me e Nathalie we're both Swedish but we both have mixed backgrounds I have a heritage from a conservative Middle East and Nathalie of course from religious Latin America and I think we kind of met how I fascinated about the themes that Clara Sola is exploring and also in our future collaboration that is about the norms that are passed forward through generation to generation and somehow these norms are I mean they are both in our heads and our bodies and all this has been kind of linked with Nathalie's filmmaking that I'm very intrigued in and together I think we kind of found a platform where we question these norms both in our lives and in cinema entrambi veniamo come è stato detto da due ambienti da due background completamente diversi io sono nato diciamo in un ambiente cresciuto in un ambiente conservatore del Medio Oriente mentre Nathalie ha questo passato diciamo di crescita in un ambiente estremamente religioso dell'America Latina e quello che abbiamo cercato di fare insieme è cercare di studiare quella che è l'eredità generazionale passata alle varie generazioni nelle due separati ambienti identificando quelle che sono le regole che vengono trasmesse alle generazioni successive da questi ambienti particolarmente rigidi e conservatori e cercando di metterle in dubbio cercando di farci delle domande proprio attraverso il film ci riesce anche in maniera molto potente in questo io vorrei se non ci sono delle domande vorrei passare invece appunto la parola ai due selezionatori che si sono occupati appunto che hanno selezionato questo film che sono Sofia Natalini e Giuseppe Gariazzo per coinvolgerli in questo scambio in questa conversazione sul film se vogliamo grazie porgere loro il microfono buongiorno grazie complimenti per il film perché è straordinario io volevo fare una domanda sull'attrice protagonista so che è una danzatrice e volevo chiedere se il ruolo è stato scritto appositamente per lei pensando a lei e come è aiutato il suo essere danzatrice il suo essere ballerina in questo ruolo così fisico angi fra l' grabio il lavoro l'ammescolta l'affascia bella da daistry da un giro o technicalo prevalentemente martian nous a件事情 venili davanti e i asso Wendy Chinchilla Raure lead actress in a dance performance and fell in love with her. I did not write it for her in the beginning and she was 10 years older than the character that we had written. So I spent one year rewriting for her, changing the family dynamics for her to be able to do it. So in the end I did spend one year writing for her, if you want to translate this part. Okay, I can continue? Okay. And then I'm a mime actor and physical actor so I work a lot with my body as the main driving force for storytelling and not so much words. So we find a common language together in this physicality on stage somehow. Prima di tutto grazie per avermi permesso a questo film di arrivare qui a Torino. Sì, in realtà quello che avevo sempre avuto in mente insieme anche alla mia coscieneggiatrice era cercare qualcuno come attrice protagonista che avesse una chiara consapevolezza del proprio corpo. Poteva anche essere qualcuno che faceva arti marziali. Però in realtà ho sempre pensato preferito quello che era l'ambiente della danza. Pensavo a una ballerina. poi ballerina che ho l'ho vista la Wendy l'ho vista durante una performance e mi sono innamorata. Non ho scritto la parte per lei inizialmente ma diciamo che ho trascorso un anno successivamente a riscrivere la parte per adattarla all'attrice protagonista che in realtà aveva dieci anni di più di quella che doveva essere la protagonista del film. Quindi l'ho riscritto un anno proprio per adattarla in un certo senso a lei. Non l'ho scritta per lei ma è stata riscritta sulla base appunto della scelta. Poi anch'io lavoro con il corpo a teatro e quindi mi piace preferisco i movimenti nel linguaggio del corpo al linguaggio delle parole e quindi abbiamo trovato proprio un punto d'incontro che ci ha permesso di lavorare perfettamente a questo personaggio. E uno dei problemi di questo carattere come si è scritto è un carattere che deve esprimere molto per rinforzare e dire molto poiché questo è per cui vogliamo lavorare con un dancero perché questo carattere è come la sua sua è stata troppo grande per il suo corpo e il suo corpo lo guardava in close e la forma che Wendy descrive il carattere quando chiedono l'interno dice che Clara è un carattere che danza tutto il tempo ma è una danza interna e poi in ogni caso avevamo bisogno quello che cercavo era qualcuno che potesse fosse in grado di esprimere veramente quella che è estrema espressività del personaggio non attraverso le parole ma attraverso i movimenti attraverso il corpo con i suoi movimenti ed è una ballerina è proprio per questo che pensavo a una danzatrice è una ballerina perché questo la ballerina esprime sentimenti sensazioni attraverso i movimenti del corpo non utilizzando la parola e anzi perché Clara è diciamo si può dire che come dice quando si chiede all'attrice protagonista domande riguardo al personaggio dice sempre che Clara è un personaggio è troppo grande è cede è troppo contenuta nel proprio corpo lei è più grande del proprio corpo che la imprigiona e quindi si esprime esprime la sua interiorità attraverso il movimento si tratta si dice balla danza danza continuamente ma è una danza interiore e senti tra l'altro questa tua scelta di scegliere una ballerina ha condizionato in qualche modo anche le tue scelte di regia perché la scelta anche di riprenderla in un certo modo perché in certi momenti come la camera sta addosso al personaggio oscilla con lei è un'esperienza quasi sensoriale proprio che fa lo spettatore follow Clara and we are never looking up to Clara as a saint we are never looking down to Clara as a child but we are on her same level and she sees on the same level as nature and sees herself as part of nature this way this way this way we can invite the audience to be part of nature as well in a very sensorial way we work with all the senses somehow especially like the tact we want to portray you know smell somehow and bring different senses like a visceral feeling to the audience through Clara and through the different elements of nature this because the director of photography Sophie Winkins who is a Swedish also studied dance and therefore there was a very intimate connection with nature living in the campground and connected to nature so it was created a perfect connection with the person di Clara and the possibility of following her in the 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 nature and so we have decided to not trattate Clara to consider her a santa or to let her to consider her her a bambina but we followed her trying to consider her to a level fair with that of nature she is part of the nature and so she is part of the nature and so what we have done for riuscire a dare a sensazione sensoriale anche al pubblico abbiamo lavorato sui sensi sui cinque sensi attraverso attraverso il suo muoversi nella natura in modo tale da risvegliare quello che è la visceralità dell'emozione nel pubblico giuseppe gariazzo volevo appunto sapere se avevi una domanda per natalie sì in realtà è un continuare quello che state dicendo perché è ovvio che una delle scelte più potenti del film è proprio questa relazione tra il corpo umano e il corpo della natura anche perché trovo e qui vorrei chiedere cosa ne pensa Nathalie che per me alcune delle scene più potenti del film siano proprio quelle in cui Clara si immerge letteralmente nella natura penso il rapporto con la terra con il fango con l'acqua ovviamente e quindi volevo magari se tu potevi dirci qualcosa in più su queste scene proprio su questo toccare fisicamente sporcarsi oppure pulirsi sporcarsi nel fango pulirsi nell'acqua e è legato a questo il discorso che un po' faceva Caterina prima dell'uso della camera mano cioè siamo veramente sei e siamo veramente addosso al corpo di Clara sì thank you there is definitely a relation in us choosing hand held camera at a lot of moments and her usage of hands both in her in nature basically be it the nature of the grass the trees the animal or be it the nature of her sex so so we wanted to include sexuality in this nature for us to speak about it as something very natural so sometimes there is no border between her own body and the rest of nature around her and this is the way we wanted to work with the camera as well going seamlessly from her body into nature and that sometimes when she is not in front of the camera she is still present through the lens of the camera and we are creating her internal images her internal feelings somehow Senz'altro c'è un collegamento di retro fa quello che è la nostra scelta di usare la camera a mano e perché per creare il collegamento con quello che è l'utilizzo che la protagonista fa delle sue mani nella natura e con la natura nel senso volevamo seguire quello che lei fa percependo la naturalezza del tutto e quindi il suo contatto con la natura che può essere semplicemente quello fisico con la natura quando interagisce con la natura vegetale diciamo animale o quello che è ma anche per quanto riguarda la sua parte quando anche ha il suo rapporto con se stessa con il suo sesso e quindi volevamo introdurre la sessualità come parte naturale dell'insieme passando senza soluzione di continuità da quello che era la sua interazione con la natura esterna quella che era la sua interazione con la natura interna diciamo che in un continuo naturalissimo e quindi non se anche mantenendo la sua presenza anche quando non era direttamente davanti all'obiettivo della macchina la lente insomma l'obiettivo della macchina da presa della camera a mano creando lo stesso la sua immagine nell'obiettivo diciamo per non alterare per rendere continuo questa sua naturalità e questa sua essere parte della natura tra l'altro ricollegandomi anche io a quello che diceva Giuseppe questi momenti in cui lei si immerge completamente nella natura in cui la seguiamo in questo rapporto con gli elementi anche più piccoli della natura io trovo che sia un modo molto interessante mi ha colpito di che tu hai di raccontare la diversità in quel momento di raccontare come lei è diversa rispetto alla sua comunità come si sente in qualche modo anche l'isolamento ecco in questo senso non so se era anche questo l'intento I think Clara is different because she's so honest because she doesn't have the same filter as the people around her and she doesn't have a need to please others or to change herself to please others she's very honest with her own body and this allows her to have this communication with nature and I think this is what prevents her to somehow escape the people around her in the same way that the white horse pops out in nature and cannot hide you know they are using the horse as well to rent she cannot hide from the people around her that are always asking something of her but in nature alone nature is not asking anything of her it's a more symbiotic relationship credo credo che clara sia diversa solo perché lei è onesta e non è non clara non deve non ha a che fare con tutti quei filtri di coloro che la circondano o della società a cui appartiene che non la portano a dover cambiare se stessa per compiacere le altre persone lei è se stessa lei è onesta anche con il proprio corpo e per questo può essere parte della natura e quindi lei è onesta con se stessa lei fa parte della natura per questo è diversa ed è rinchiusa diciamo si vede che il fatto che sia circondata da persone che chiedono sempre qualcosa che cercano sempre di ottenere qualcosa da lei la rinchiude esattamente come le impedisce diciamo di fuggire e sarà la natura che le permetterà di fuggire le impedisce di fuggire esattamente come per esempio altri elementi animali il cavallo per esempio che è confinato dalle persone dalla popolazione e che è libero soltanto quando poi è immerso nella natura quindi l'immersione nella natura le permette di non dover di fuggire in questo rapporto che diventa estremamente simbiotico cosa che non ha invece nell'ambito del suo villaggio certo sì grazie Nathalie per questo per questo film per questa appunto immersione in questo mondo magico e che ci racconta una storia appunto di di liberazione una storia di un percorso anche di formazione no noi purtroppo dobbiamo chiudere perché i tempi sono molto stretti però ecco come festival siamo stati veramente molto felici di anzi siamo felici di ospitare il tuo film che lo ricordiamo si chiama Clara Solo un film presentato in concorso di Nathalie Alvarez Mesen grazie ringraziamo ovviamente anche il produttore Nima Yousefi allora buongiorno benvenuti a questa nuova conferenza stampa la conferenza stampa di Londa Lunga storia straordinaria di un'associazione documentario di Francesco Ranieri Martinotti è presentato fuori concorso al Torino Film Festival numero 39 ricordiamo che siamo sempre in collegamento anche con chi ci segue da casa sulla nostra piattaforma Zoom quindi se volete fare domande oltre che diciamo ai qui presenti l'invito è rivolto anche appunto per chi ci segue online allora oggi andiamo anzi prima a presentare subito i nostri ospiti allora al tavolo abbiamo Francesco Ranieri Martinotti regista del film Alessandro Alessandro Rossetti sceneggiatore del film Alessandro Trigona anche lui sceneggiatore Gabriele Genuino che insomma chiunque si occupi di documentari a conoscenza insomma di quanto lui ha fatto in questo settore per i cinema e Camillo Esposito che è il produttore eccolo qua in prima fila anche lui per Cap Town produttore allora dicevo oggi uno degli eventi cardine del programma del Torino Film Festival è sicuramente il vasto ventaglio di iniziative proposte dall'ANAC che formatosi nel 1952 è l'associazione che da sempre tutela gli interessi degli autori e potremmo dire anche proprio l'idea del cinema come arte di libertà allora per quanto riguarda la storia dell'ANAC ovviamente rimandiamo al bellissimo documentario di Francesco Martinotti a cui tra poco cederò la parola e di cui ci potrà parlare diffusamente e tra l'altro voglio ricordare che Francesco Martinotti è anche oltre che autore del documentario è anche presidente dell'ANAC proprio dal 2015 e quello che però ci tengo a sottolineare prima di cedere la parola ai nostri ospiti è che insieme a questo film oggi pomeriggio l'ANAC propone una collaborazione con Film Commission Torino-Piemonte con Roma-Lazio Film Commission tra l'altro vediamo qui seduto in prima fila il presidente Luciano Sovena e anzi l'occasione gli diamo il benvenuto buongiorno anche per salutare due membri illustri del direttivo dell'ANAC che sono Giuliana Gamba benvenuta e Mimmo Calopresti benvenuto anche a lui ecco dicevo appunto c'è questo convegno organizzato proprio in sinergia con queste due Film Commission con l'ANAC e con il Torino Film Festival presentato all'interno delle giornate del Torino Film Industry che propone un convegno dal titolo gli autori il nuovo oggi quindi diciamo che se il documentario rappresenta la storia dell'associazione dell'ANAC appunto questo convegno potremmo dire che rappresenta il presente e il futuro dell'ANAC perché rifletterà su un tema fondamentale ovvero quello dell'autorialità nell'epoca della globalizzazione delle coproduzioni infatti saremo anche in collegamento con l'Argentina ma di questo poi vi parlerà anche di questo Francesco Martinotti anzi poi magari se lo vorrà daremo proprio la parola a Luciano Sovena allora io a questo punto non voglio più rubare tempo perché vorrei che parlassero che avessimo modo di parlare diffusamente di tutto quindi comincerei col dare la parola proprio a Francesco Martinotti grazie Caterina grazie a tutti è chiaro è un po' difficile il mio ruolo perché parlare di un documentario di Francesco Martinotti è abbastanza diciamo riduttivo perché questo è il documentario dell'ANAC che vuole non fare la storia dell'ANAC che è una storia che ha 70 anni perché l'ANAC è stata fondata nel 1952 ma questo documentario è il frutto di un lavoro che è iniziato con gli archivi dell'ANAC perché l'ANAC ha un patrimonio di archivi molto importanti che sono stati curati soprattutto da Alessandro Rossetti e da Alessandro Tricona e per questo mi hanno affiancato in questo lavoro e quindi questa è è un tentativo di mettere in fila e di semplificare una storia molto complessa che però nessuno conosce e che però ha fatto parte della storia di questo paese dal dopoguerra a oggi come dice nel documentario Lina Vermuller in una bellissima intervista che ha fatto proprio Giuliana Gamba l'ANAC che è stata molto importante e gli autori sono stati fondamentali per la storia di questo paese del dopoguerra oggi quindi la responsabilità mia è doppia sia perché mi sono preso la responsabilità di cucire tutto questo materiale e fare una sintesi se ne potrebbe fare una serie visto che oggi si parla di serie perché il materiale è tanto gli aspetti sono tantissimi gli aspetti che ha affrontato l'ANAC nella sua storia l'idea era quella di trasmettere soprattutto le nuove generazioni che cosa è stata l'ANAC e cosa sono state le battaglie che ha fatto l'ANAC e cosa continua a fare l'ANAC oggi tant'è vero che appunto questo percorso che parte dal 52 e arriva oggi viene raccontato anche con delle testimonianze di Mimmo Calopressi Giuliana eccetera per raccontare quello che ancora oggi l'ANAC con la coerenza di un passato così importante continua a fare però appunto vorrei avete ricordato tutti tranne Andrea Fornaciari che ha fatto le musiche del film che sta qui anche lui presente lo ringrazio e poi soprattutto il produttore che si è preso in qualche maniera la fatica perché non è facile combattere con gli autori in una materia così così delicata dove insomma dove si affluiscono tutta una serie di dinamiche di logiche di pensieri diversi e quindi mettersi in una impresa come questa bisogna essere un po' pazzi un po' incoscienti come Camillo Esposito che ha convinto che ha convinto intanto Gabriele Genuino del Radio Cinema a seguirlo in questa impresa e devo dire che anche voi siete stati molto coraggiosi quindi ti ringrazio e soprattutto sono contento che ci sia la vostra presenza in questo documentario come quella dell'Istituto Luce come quella dell'AMOD e come quella dell'archivio dell'ANAC non mi dilungherò troppo la cosa che abbiamo voluto fare è ragazzi sto parlando da quattro minuti datemi uno in più è fatto cinque lei ha parlato tre minuti ho visto i tempi sono molto stretti quindi vi invito alla brevità l'ultima cosa sulla giornata oggi abbiamo voluto fare il giorno degli autori alla trentanovesima edizione del Festival di Torino e appunto alle quindici ci sarà questo questa tavola rotonda trasmessa anche in streaming e in parallelo con Ventana Sur a Buenos Aires con gli autori dell'America Latina sul ruolo dell'autore oggi e quindi sul rapporto con tutto il nuovo sistema produttivo delle piattaforme un dibattito molto importante che è organizzato come si diceva insieme alla Roma Lazio Film Commission e alla Piemonte Torino Film Commission e a Torino Film Industry questo per dirvi che appunto questo è anche un momento molto importante politico al quale parteciperà anche Nicola Guaglianone Stefano Reali Mimmo Calopresti Giulia Gamba e altri autori più tutta una serie di autori dal Messico fino al Cile non dico altro sono rimasto nei cinque minuti almeno cinque minuti al regista bravissimo Francesco allora passiamo la parola ai due sceneggiatori che sono Alessandro Rossetti e Alessandro Trigona che saranno ancora più sintetici volevo in qualche modo mettere a porre l'attenzione sull'importanza appunto dell'archivio dell'ANAC che è depositare di una storia che ancora non si conosce di cui questo lavoro sul documentario è solo una piccola parte l'archivio dell'ANAC è stato messo in sicurezza salvato a partire dal 2006 quando l'ANAC cambiò sede e rischiò questa montagna di carte e di filmati e di documenti registrati di andare perduto lo mettemmo in sicurezza recuperammo le carte una volta cambiata la sede e da lì iniziò un lavoro di studio su queste carte e del tentativo di cercare di valorizzare questo patrimonio riuscimmo con Alessandro Chivinti Trigona a ottenere il riconoscimento di importanza storica da parte della sovrintendenza e iniziamo il lavoro di riordino di questo archivio che tuttora dura accanto a questo lavoro poi abbiamo iniziato una serie di recupero delle testimonianze storiche dei protagonisti che sono appunto i grandi autori che hanno fatto parte dell'ANAC e che avevano cominciavano ad avere una certa età non abbiamo fatto in tempo a prenderle tutte però abbiamo recuperato le interviste anche grazie al lavoro con Nino Russo all'inizio le interviste dei più grandi che all'epoca ancora frequentavano e ancora animavano la storia dell'ANAC Maselli Gregoretti Lizzani tornando indietro abbiamo recuperato anche altre testimonianze di Cosulice che abbiamo scoperto che aveva fatto parte dell'ANAC come segretario proprio alle origini e abbiamo recuperato anche la storia della nascita il punto uno dei punti importanti è proprio nel dopoguerra quando nasce l'ANAC che è molto importante anche per quello che sta accadendo oggi nel senso che all'epoca gli autori invece di seguire la diaspora che apparteneva a tutte le categorie del mondo della politica e dello spettacolo con l'ascissione seguendo gli orientamenti politici gli autori invece scelsero di stare tutti insieme in un'unica associazione che rappresentava i registi gli sceneggiatori addirittura anche i musicisti di film e proprio nel 52 venne organizzato il congresso mondiale a Venezia degli autori mettendo al centro quelli che rimangono i grandi temi degli autori la libertà d'espressione e il diritto d'autore che sono i caposaldi della lotta che continua a essere in tutto il mondo le lotte degli autori di cinema e dell'audiovisivo grazie Alessandro prima di passare la parola ad Alessandro Trigono so che c'è una domanda di Cristiana Paternola di Cinecittà News e qua ce n'è un'altra quindi mi perdoneranno ma diamo magari la priorità alle domande allora buongiorno domanda per due domande veramente per Martinotti allora un tema trattato dal documentario un tema interessante è quello diciamo della diversificazione delle associazioni che rappresentano gli autori che è un fenomeno più recente penso alla nascita di cento autori ma insomma adesso ci sono tante associazioni anche specifiche per i musicisti eccetera volevo chiedere un commento su questo e se pensate che questo indebolisca gli autori nel dialogo con le istituzioni oppure se invece pensate che sia una ricchezza e poi vabbè l'altra diciamo sul presente e il futuro cosa di cui si parlerà nel convegno però se intanto ci volete anticipare quali sono le battaglie presenti e future che abbiamo visto insomma nel film tutte le battaglie che l'ANAC ha combattuto quali sono quelle che ci aspettano nel futuro immediato grazie grazie a te Cristina chiaramente la domanda è molto retorica è chiaro che ci indebolisce questo ci ha sempre indebolito e devo dire che abbiamo tentato e stiamo continuando a cercare di dialogare in maniera più più intensa ci sono delle cose chiaramente che se ci sono diverse associazioni perché ciascuna ha una propria Weltanschauung e una propria visione dei problemi perché e l'ANAC come avete potuto vedere nel documentario ne ha una molto precisa e molto forte che non vuol dire perché a volte ci accusano di essere retrogradi eccetera no noi siamo la nostra linea è modernità nell'identità nel senso che ti faccio un esempio abbiamo fondato questa scuola di sceneggiatura intitolata alle o benvenuti una scuola di sceneggiatura che è diretta da Umberto Marino e nell'impianto didattico chiaramente c'è una parte che si riferisce ai modelli americani e c'è un docente che parla di questo però chiaramente l'ANAC non può dimenticare la scuola di sceneggiatura italiana quella rappresentata da Suso Cerchi d'Amico da Pirro da Agge Scarpelli di cui oggi non si parla quasi più oggi l'insegnamento è tutto orientato su quello crinale lì questo per noi non non può andare perché questo fa parte della nostra identità fa parte della nostra identità del cinema fa parte della nostra identità della narrazione all'italiana è chiaro che tutti quei modelli McKee Snyder eccetera sono sicuramente validi ma tra l'altro sono stati desunti dalla scuola italiana cioè gli americani sono stati molto bravi perché hanno analizzato perché funzionavano quei modelli da Benvenuti Agge Scarpelli cioè sono quelli che hanno fatto e hanno creato un modello di scrittura e di cinema importantissimo che ha fatto la storia del cinema ecco gli americani l'hanno analizzato e hanno fatto quelle formulette che benissimo le insegniamo nella scuola ma al 20% all'80% invece parla ecco il senso è questo su alcune cose invece con le altre associazioni non abbiamo questo stesso punto di vista e questo vale per la fotografia per la regia eccetera spero di essere stato chiaro l'altra cosa le battaglie le battaglie ecco una di queste è quella di cui si parlerà oggi alle 15 cioè qual è il ruolo degli autori in un sistema che va a orientarsi verso modelli creativi matematici cioè il rapporto con l'algoritmo cioè la scrittura di una serie che praticamente viene influenzata dal costante andamento dei picchi di successo di visione e quindi chiaramente il produttore di quel tipo dice costantemente all'autore guarda uccidi questo personaggio perché non funziona fai quest'altra cosa perché va meglio ed è inseguire in continuazione un modello che poi si replica all'infinito e quindi diventa sterile so che c'era anche una domanda qui in prima fila prego buongiorno Livio Cavalieri per Taxi Drivers in parte ho iniziato a rispondere a quella che sarebbe la mia domanda quali sono le battaglie oggi combattute dall'associazione perché storicamente l'associazione nasce come difesa del cinema italiano dal colonialismo americano e uno dei grandi successi è il raggiungimento di una legge sull'equo compenso ora il colosso Disney una scritta internazionale qualche mese fa è stato dimostrato come concentra tutto il guadagno e ripartisce in quote minime ai lavoratori del settore quelli che sono i guadagni per quanto riguarda il colonialismo quest'anno la festa del cinema di Taormina chiudeva con Black Widow della Marvel Alice nella città chiudeva con Eternals sempre un film Marvel rispetto a questo colonialismo colonizzazione che ancora è in corso l'associazione ha una posizione e in che modo potrebbe combattere questa deriva grazie allora noi abbiamo fatto l'altro giorno comunicato sulla questione dell'uscita in sala dei film prodotti dalle piattaforme riteniamo appunto che in qualche modo bisogna dare delle regole se ci sono se vengono date delle regole precise stringenti come per esempio avviene in Francia in Francia esiste un sistema molto più più organico e forse un sistema dove tutte le categorie hanno voce in capitolo da noi non sempre tutte le categorie hanno voce in capitolo spesso hanno voce in capitolo le categorie più forti e questo non va bene perché le risorse pubbliche sono di tutti e quindi anche in qualche maniera questa è sempre stata una delle battaglie dell'ANAC la distribuzione democratica delle risorse pubbliche una distribuzione equa una distribuzione che in qualche maniera aiuti anche i più deboli i produttori indipendenti ecco Camillo Esposito è un esempio di distributore di produttore indipendente sicuramente riesce ad avere le risorse ma con molta difficoltà con più lentezza perché magari non ha accesso al grosso credito come hanno delle grosse imprese ecco in Francia i piccoli i grandi sono in qualche maniera curati con attenzione proporzionale è più equa concludo una delle battaglie storiche dell'ANAC è quella della creazione di un centro nazionale del cinema e dell'audiovisivo come c'è in Francia sono pochi paesi europei dove la cabina di regia dell'audiovisivo e del cinema e quindi della gestione delle risorse pubbliche è in mano a un organismo che fa capo direttamente al ministero c'è sempre o dei film o dei centri nazionali in cui c'è una mediazione tra il ministero quindi il potere del governo eccetera e le categorie ecco anche su questo è un'altra cosa che sarebbe giusto riflettere sulla quale l'ANAC concentra ancora le sue battaglie posso dire un giro di tavolo con la parola di Alessandro Trigo l'ANAC storicamente sempre in riferimento appunto alle battaglie fu la promotrice una delle importanti promotrici della nascita della FERA che è la federazione europea dei registi e degli autori dell'audiovisivo e in seno a questa organizzazione è stata una delle promotrici dell'avvento dell'eccezione culturale che è uno degli elementi cardine della legislazione europea che permette il sostegno alle attività culturali al di fuori sapete che le attività commerciali sono regolate e l'impossibilità degli aiuti di Stato l'eccezione culturale è stata l'escamotace che ha permesso agli stati nazionali di continuare a sovvenzionare la propria cultura e questo rimane un cardine della legislazione europea e di tutte le direttive che possono in qualche modo sostenere le attività dell'audiovisivo e continua ad essere appunto sostenuta soprattutto dalla Francia uno dei cardini essenziali anche per il futuro perché le grandi questioni sono sempre più regolate nei consessi internazionali i forum io voglio essere brevissimo le battaglie dell'ANA che storicamente c'è quella della censura ad esempio i documentari della Maggini che fossero tagliati quando arrivò la televisione privata il problema delle pubblicità che spezzavano le emozioni eccetera cioè è un patrimonio enorme Michele Conforti è un autore come noi tra l'altro recentemente ha rilasciato importante intervista nella quale è una delle come dire memorie storiche delle battaglie dell'ANA però io voglio dire una cosa è un patrimonio enorme andrebbe guardo la RAI scandagliato a fondo perché si trova tanto e di più in quegli archivi anche solo audio o documentale di carta però io voglio dire una cosa un documentario del genere rischia inevitabilmente un'ingestatura e io voglio qui dare come dire merito a Francesco di avergli dato un taglio molto particolare quindi non parlo ora del contenuto del documentario che c'è ma proprio di un taglio estetico che veramente hai fatto un lavoro straordinario e secondo me anche per questo va assolutamente visto questo documentario perché è originale e in un certo senso movimentato quasi anche divertente perché raccontare una storia come questa rischio della noia era dietro l'angolo e Francesco è stato straordinario questo secondo me anche perché non è la classica cavalcata vittoriosa che tende alla santificazione dei protagonisti ma proprio perché c'è il racconto dei dissidi interni di tutte le problematiche su questo però noi dobbiamo veramente chiudere vorrei che però coinvolgere in ultima battuta Gabriele Genuino di Ray Cinema per appunto ci racconti brevemente il suo coinvolgimento nel progetto intanto buongiorno brevemente noi abbiamo partecipato dando un piccolo sostegno a questo film ma certamente due cose da dire in maniera molto chiara dovevamo esserci perché era un dovere volevamo esserci perché tornare su questa storia mi rilascio a quello che è stato detto raccontarla anche se per sommi capi in una sintesi per quello che è stato una storia viva vitale che ha costituito diciamo così l'identità culturale del nostro paese e l'identità del nostro cinema questo era fondamentale e dal nostro punto di vista ci sembrava giusto ricordarla a noi stessi e a tutti quanti perché il seguito di questa storia stiamo cercando di scriverlo tutti assieme di fatto da un po' di anni mi riferisco almeno allo specifico del mio lavoro che certamente stiamo tentando di sostenere gli autori italiani gli autori già affermati e soprattutto anche i nuovi autori che stanno venendo fuori dal nostro punto di vista la salvaguardia assolutamente in maniera specifica in questo momento in questo tempo storico dell'identità culturale che caratterizza il nostro cinema e che è declinata attraverso i nostri autori è il punto centrale ad oggi di tutta la questione e di tutto quello che accadrà nei prossimi anni siamo davanti a un mutamento storico come forse poche altre volte abbiamo visto e con una tendenza alzarei a dire pericolosa che sta tentando in maniera diciamo univoca di cancellare la centralità culturale e la specificità culturale di ogni singolo paese di fronte a questo è chiaro che tutti noi assieme tutte le parti bisogna che ci interroghiamo ci guardiamo in faccia con molta onestà e con molta chiarezza individuiamo le azioni da fare e i percorsi da intraprendere certamente immagino e dal mio punto di vista certamente posso affermare che così l'intento è comune grazie grazie un'ultimissima battuta del presidente della Roma Lazio Film Commission sul convegno vorremmo grazie da se tu ricordi dove è che dove è sì allora oggi alle 15 e 30 il luogo no no vai Luciano alle 15 e 30 alle 15 e 30 alle 15 scusate io ero rimasta al vecchio programma al museo del risorgimento alle 15 allora alle 15 al museo del risorgimento in presenza il titolo è gli autori il nuovo oggi il collegamento con Buenos Aires con Ventana Sur con tutti gli autori dell'America Latina dal Messico Brasile Argentina Cile e Paraguay e in streaming sulla piattaforma Torino Film Industry e sulla piattaforma dell'ANAC Anachino in collaborazione con la Roma Lazio Film Commission con Film Industry Torino Film Industry e con la Film Commission Torino Piemonte benissimo e il film viene proiettato questa sera alle 18 al Cinema Lux 1 e poi replicato sabato 4 alle ore 17 sempre Cinema Lux 1 grazie e arrivederci grazie grazie a tutti i nostri ospiti cominciamo subito con la prossima conferenza stampa quest'oggi abbiamo un programma molto intenso e per cui ovviamente abbiamo pochi istanti tra una conferenza stampa e quella successiva ci spostiamo nel nel territorio del Torino Film Lab è un film presentato appunto nella sezione fuori concorso Torino Film Lab Natural Light di Dennis Nagy che è qua con noi presente quest'oggi ad accompagnarlo oltre alla nostra instancabile traduttrice Gigliola Viglietti che ringrazio ovviamente per l'ottimo lavoro svolto abbiamo il piacere anche di avere Mercedes Fernandez Alonso che appunto in rappresentanza del Torino Film Lab Natural Light è un film assolutamente eccezionale straordinario io continuo a dirlo in questi giorni siamo molto fortunati quest'anno al Torino Film Festival perché abbiamo la possibilità di vedere questi film in sala la potenza di Natural Light va goduta assolutamente in sala quindi vi consiglio caldamente di vedere il film appena possibile è un film ambientato durante la seconda guerra mondiale il protagonista è un partigiano che si trova quasi di colpo diciamo a dover gestire un manipolo di soldati una storia quindi che ha a che fare con la storia con la S maiuscola che parla però di una storia estremamente personale che riflette però una condizione umana quella della della confusione della mancanza di controllo forse sugli accadimenti quindi come la storia possa modificare le personalità di chi ovviamente in quel momento partecipava alla storia io comincio proprio chiedendo a Dennis regista di questo film che ha un'esperienza come documentarista che arriva alla fiction per la prima volta come è riuscito a trovare diciamo questa storia piccola da un certo punto di vista ma che riflette come dicevamo su qualcosa di più grande se c'è una base di verità da dove è partito scrivendo Natural Light torino film festival torino film lab for being here it's a big pleasure torino film lab really contributed to our film and we are really honored that it is presented now the torino film festival this film took me seven years to make it's a it was a very long work and my idea was to to show the history from the point of view of the unknown people of the unknown soldier the main character of this film is a guy who is a farmer who doesn't know the world who doesn't understand the world doesn't understand politics and he's drafted in an army taking thousands of kilometers away to another country to Russia to the Soviet Union to fight for a cause that it's not his he has nothing to do with but still he has to make decisions very crucial decisions and he goes through the war with the aim of trying to get home as soon as possible to survive and in this area where he arrives in this very swampy wild nature with small Russian villages that you're looking for Russian partisans he slowly loses his orientation and he goes into this darkness he feels this darkness around but he doesn't know what his task is he only knows he wants to go home but in this goal he loses the chance to really react to what is in front of him to what is happening to him so I think that was my key idea my grandfather was in the second world war it's important to say that he inspired me a lot his stories I grew up with his stories in the Sunday lunches at home he always talked about the war as an adventure he never talked about the atrocities or any kind of really dramas that happened to him and I was always wondering why he never talked about it for example there was a story when he was ordered to kill a partisan to shoot down a partisan it was somewhere in Ukraine and by the by some situation he didn't have to do this I mean finally he didn't have to shoot this guy but I was always wondering as a child that what he went through what was in his head when he was ordered to do that what would he do if he had to do it or how would he do it how would he explain it after and when I ask this question what was in his mind he could never really answer he always skipped the answer I could really not touch in between the lines or really like get what was his emotional experience in that moment and I wanted to show in this film to go get to the presence of the world so what is going on inside the mind of a man of a simple man I think yeah I mean this presence is the most interesting for me it's not about we don't see famous people or we don't see I think many times the history is told by the famous people or the main events that happen and I try to do the opposite I try to go to the invisible part of the world which is never told and never seen and what I tried to do in reality is the contrary of what the opposite of what in general is when you have to tell in a film the story that is generally told by great events by great characters through the great events through the great characters I wanted to and first of all I forgot to I wanted to thank you of course the festival of the Torino Film Lab that with their great contribution mi ha permesso di arrivare a questo film e di portare il film al Torino Film Festival e quindi quello che ho cercato di fare con questo film che diciamo che ho al cui ho lavorato per sette anni quindi un lavoro molto complesso e raccontare invece la storia proprio con la S maiuscola attraverso gli occhi di degli ignoti diciamo di coloro che non sono conosciuti non sono noti non sono visti di soldati ignoti mettiamo così non dei grandi semplicemente la gente semplice comune come in realtà succedeva nella guerra e la storia è quella appunto di questa persona il personaggio è semplicemente un contadino che come tanti altri come effettivamente successe durante la seconda guerra mondiale viene arruolato a forza nell'esercito e si trova sbattuto in un mondo che non conosce viene portato tantissime centinaia centinaia di chilometri di distanza in Russia in questi posti questa persona non conosce il mondo non riesce a capire è lontano da casa sua si trova in un posto che assolutamente gli fa perdere a un certo punto l'orientamento e sa soltanto una cosa di voler tornare a casa il primo possibile questa è la sua idea fissa ed è il suo obiettivo finale e si trova in questo posto che è assolutamente complesso difficile paludoso si trova in situazioni complesse da cui per vivere fa parte di questo gruppo manipoli di soldati che deve andare alla ricerca a scovare partigiani russi e a un certo punto proprio a causa dell'ambiente di tutti gli eventi essendo una persona semplice non conoscendo niente incomincia a perdere veramente l'orientamento e scivola sempre di più in una zona oscura della sua personalità del suo mondo sa solo guidato da questa unica diciamo luce che è il desiderio di tornare a casa e tutto questo non sapendo nulla lui a un certo punto si trova a dover prendere delle decisioni anche molto importanti senza essere in grado a causa di questo disorientamento di affrontare questa che è la perdita di controllo e c'è una base reale effettivamente diciamo dietro all'idea di questo film che anche sono state le storie del mio nonno mio nonno partecipò alla seconda guerra mondiale e ci sono le sue storie la domenica a pranzo mi raccontava sono cresciuto con i suoi aneddoti con le sue storie però per lui la guerra insomma era sempre stata la raccontava come una grossa avventura non aveva mai parlato non mai ha parlato delle atrocità delle cose che erano successe e da bambino già questo mi poneva delle domande mi chiedevo perché mai perché che cosa potesse aver pensato quell'uomo durante la guerra a dover commettere cose perché raccontava in realtà degli spezzoni diciamo a volte di avvenimenti tipo una volta che gli venne ordinato di uccidere una persona in Ucraina e poi per una serie di eventi finì per non doverlo uccidere e lì mi chiedevo già ma che cosa aveva in mente come avrebbe che cosa ha pensato quando gli hanno chiesto di uccidere questa persona e quali sono state quali erano le sue emozioni al momento e come si è sentito che cosa avrebbe fatto avrebbe avesse scusate dovuto portare avanti questo ordine e quindi questo è quello che mi ha spinto in realtà al film cercare di capire le sensazioni e tutto il lavorio mentale delle persone nel presente cioè in quel momento durante la guerra non a posteriori nel presente e della gente semplice quindi vedendo il tutto attraverso i loro occhi allora come abbiamo detto il film è fuori concorso Torino Film Lab abbiamo con noi Mercedes Fernandez grazie Alonso a cui andrei a chiedere questa collaborazione con con Dennis perché il film arriva appunto grazie al Torino Film Lab che come dicevamo in questi giorni Torino Film Festival da sempre a cuore il cinema nuovo prime e seconde opere nel concorso ma Torino Film Lab in qualche modo porta addirittura più in alto la sticella di quello che sono i territori inesplorati del cinema quindi come nasce la collaborazione con Dennis e come siamo arrivati ad avere la fortuna di avere Natural Light fuori concorso allora il Torino Film Lab è un laboratorio internazionale quindi il nostro obiettivo è quello di andare a sostenere voci nuove e originali e potenti come quella di Dennis che arrivano da tutti gli angoli del mondo il caso di Dennis è stato diciamo particolarmente di successo perché lui ha sviluppato il suo progetto con noi durante due anni quindi durante il primo anno abbiamo lavorato insieme alla sceneggiatura durante il secondo anno abbiamo lavorato anche con il produttore su aspetti più collegati alla produzione quindi è un come dire abbiamo fatto un percorso lungo insieme nel quale il Torino Film Lab ha voluto offrire uno spazio protetto come ha detto Dennis il processo è lungo per questi tipi di film lui ci ha messo sette anni e noi come dire abbiamo voluto dare un nostro contributo quindi siamo felicissimi che ci sia adesso al Torino Film Festival allora ricordo ovviamente che chi vuole può fare domande approfitto per salutare Rita Di Santo selezionatrice del Torino Film Festival in concorso che so essere anche lei appassionata del film di Dennis Rita se ci può raccontare qualcosa di questa meravigliosa performance del protagonista del film l'attore protagonista che so non è un attore professionista volevo sapere come ha lavorato con lui e come lo ha preparato al ruolo grazie grazie per la question dal primo l'idea l'idea di questo film era lavorare con amateurs non era una question di lavorare con actori quindi mia responsabilità come direttore era principalmente del casting quindi abbiamo spento molta energia e tempo nel casting 3 anni per trovare queste persone del film sono Hungarian agricole che stanno giocando soldi e sono russi agricole di Latvia dove abbiamo shotato il film che stanno giocando russi villagini del film e l'idea era di looking for persone farmiche in l'unica di Hungary che stanno lavorando fisicamente job year lavorando con animali o poich o poich poich in winter in cold in summer in summer heat so you feel this kind of conditions of working on their faces on their hands on their legs the skin the tiredness of this kind of lifestyle so when we see these people in the war in the film we have to believe that these people are there for half a year a year on these very harsh conditions it's winter it's cold they very interesting with the main character main character is also a cowboy he's working in a very small farm in the middle of Hungary in the countryside he's alone taking care of 150 cows every day with his dog he's a very quiet very 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 close person and we finally with him we took other 20 Hungarian farmers to Latvia which is from Hungary it's like a thousand kilometers away these right they didn't have a passport they never been abroad so we took all these people who really didn't know the world as it is in the film we put them on an airplane we took them to Latvia where we shot the film into the nature we were really isolated very far from the capital of Latvia Riga for two months and there we gave them a weapon we gave them a uniform and they went through a military training where they had to become a unit an army unit and then through the two months of shooting in this very wild circumstances very harsh circumstances every day carrying 30 kilograms of equipment as an army soldier on themselves I think this situation really created this kind of atmosphere for them which was the atmosphere of the soldiers in the Second World War they really didn't like what they are doing they didn't want to act they took it as a work and they really wanted to go home they were really homesick so when somebody wanted somebody finished the shooting there was always a celebration that finally they can go home it was not like they enjoyed this kind of shooting or enjoyed being an actor it was something taken as a work so I think this situation which is reflected in a way this kind of original situation and this created the psychology of the film what is also interesting that they were faced with real Russian people who didn't speak their language so they couldn't communicate in the set they couldn't communicate there was no time to really get to know each other so when they were in situations where they had to be aggressive with these people it was suddenly something very tense because it was not something that could be eased in the breaks of the shooting or that could be talked about we really didn't talk give many instructions to the actors it was something that came very naturally because of the situation thank you for the question the point of the part was to to be clear that the idea was to use non professionist since all'inizio no professionista and this has implicated especially for me I am occupated of the casting a job of three years of research and what I to find to find the people who could through a determinato percorso rappresentare e ricreare naturalmente gioiosamente l'atmosfera che poteva essere quella originale in quei luoghi durante quegli anni nella seconda guerra mondiale e quindi quello che ho cercato ho cercato tra gli agricoltori ungheresi contadini anche gente che viveva anche nel mezzo del nulla e quindi abbiamo preso i contadini alcuni ci hanno trovato contadini ungheresi che sono arrivati poi a essere i soldati ungheresi che formano parte dell'unità e del platone e anche poi abbiamo invece fatto il casting per la parte che è relativa al paese russo e alla russia in russia scegliendo proprio delle persone comuni russe che rappresentavano poi gli abitanti del paese che è nella storia quindi contadini soprattutto in generale contadini volevamo gente proprio che lavorasse che portasse su di sé i segni del lavoro manuale che faceva che lavoravano soprattutto abbiamo cercato nelle fattorie negli allevamenti di soprattutto maiali e vacche e volevo che questo lavoro si vedesse che lo presentassero che fosse persone che lavorano d'inverno d'estate all'esterno che fossero che la loro pelle fosse solcata proprio dalle tracce del lavoro che mostrassero questi volti da contadini i loro modi la loro stanchezza che tutte le caratteristiche del lavoro pesante del contadino potesse effettivamente risultare in personaggi convincenti e loro avrebbero semplicemente questi personaggi convincenti che dovevano stare c'è questi personaggi questi soldati che per circa sei mesi giù di lì dovevano vivere in questo posto dove erano stati mandati al freddo d'inverno al caldo d'estate soffrendo la fame stanchezza e tutto questo doveva essere già naturalmente parte degli attori non professionisti che sono stati scelti e che con la loro naturalezza con la loro fisicità con il loro background lavorativo avrebbero aiutato a rappresentare oltretutto il protagonista è un personaggio molto interessante nel senso anche lui un contadino lui fa anche il guardiano di vacche nel senso che lui lavora per tutto l'anno da solo con le sue 150 vacche e i suoi cani e lui insieme ad altri 20 ungheresi li abbiamo poi naturalmente li abbiamo trasportati a mille chilometri di distanza perché la Lettonia dove poi avviene gli eventi si trova a circa mille chilometri di distanza dall'Ungheria li abbiamo presi e trasportati esattamente come succedeva durante la guerra e anche questo probabilmente ha influito sulla naturalezza della resa li abbiamo presi c'erano persone che non sapevano neanche leggere né scrivere certi che non avevano naturalmente il passaporto non erano mai usciti dal loro paese dalle loro case quindi noi abbiamo pensato a tutto li abbiamo presi messi su un aereo e li abbiamo trasportati per trovarsi immersi in questo posto assolutamente in mezzo alla natura perché il posto dove abbiamo girato in Lettonia è ben distante diciamo da Riga che è la capitale il capoluogo della Lettonia per ben due mesi due mesi dopo averli naturalmente li abbiamo formito le armi uniformi li abbiamo sottoposti ad addestramento militare e loro per due mesi hanno dovuto fare queste riprese in queste condizioni come fosse nella seconda guerra mondiale portandosi ciascuno 30 chili di attrezzatura sulle spalle e tutto questo è servito a il risultato nell'atmosfera del film che è l'atmosfera dei soldati che si trovano a far vivere questa vita nella seconda guerra mondiale e soprattutto non abbiamo cercato loro non sono loro non recitano per loro quello che veniva fatto era un lavoro che facevano con fatica ma anche gioiosamente e anche loro avevano in mente soltanto una cosa esattamente come il protagonista nella realtà tornare a casa non vedevano loro che finisse tutto per poter tornare a casa e questo ha anche portato alla costruzione di questa perfetta è stato un riflesso insomma della psicologia del film e tutte le volte che qualcuno finiva le riprese e poteva tornare a casa era festa si festeggiava e lo stesso vale anche per tutti i russi diciamo che tra l'altro ovviamente non parlavano la lingua degli ungheresi e viceversa per cui non si capivano per cui ha aumentato anche la tensione del film in certi momenti perché soprattutto quando c'erano gli scontri ecco si arrivava a un livello diciamo di aggressività che poteva anche non essere facilmente controllabile perché in realtà era tutto molto naturale e questo noi abbiamo dato pochissime istruzioni e tutto il risultato probabilmente nell'atmosfera è dipesa da questa naturalità allora come avete capito il film è assolutamente imprescindibile lo ricordo fuori concorso Torino Film Lab Natural Light abbiamo avuto il piacere di avere con noi Dennis Neggi che è il regista e Mercedes Fernandez Alonso che si occupa del Torino Film Lab ci sarebbe moltissimo altro da dire perché c'è un utilizzo del suono dei set della luce del film che è assolutamente da analizzare sfortunatamente il tempo a nostra disposizione è finito io quindi ringrazio Dennis gli faccio veramente i complimenti e grazie Mercedes grazie va bene ci siamo ancora Torino Film Festival 39esima edizione siamo arrivati alla quarta giornata io ringrazio peraltro anche chi ci segue dalla Sara non solo chi ci segue da Zoom però cominciamo a diventare diciamo volti familiari ed è un piacere vedere le persone che seguono con così tanta attenzione la programmazione del Torino Film Festival evento molto importante quello di cui vi stiamo per parlare fuori concorso quest'anno c'è una selezione attentissima sia per quanto riguarda il concorso che per quanto riguarda appunto la selezione fuori concorso parliamo di un di un film che è il primo film italiano Paramount Plus Original è tratto da un libro edito dalla nave di Teseo il libro l'hanno scritto Ivan Cotroneo a cui do il benvenuto grazie per essere qui insieme a Monica Rametta Ivan Cotroneo però è anche regista del film i due insieme hanno scritto il libro hanno sceneggiato il film chiedo scusa e insieme a loro gli attori Thomas Strabacchi e Carlotta Natoli grazie per essere qua con noi oggi perfetto allora io comincio con una domanda a Ivan ovviamente oddio chiedo scusa esatto allora visto che il film nasce e racconta una storia che come dire abbiamo sfortunatamente vissuto tutti non pensavamo di vederlo al cinema in quel momento non potevamo andare al cinema adesso finalmente il film invece lo possiamo vedere al Torino Film Festival e poi fortunatamente lo potremo vedere al cinema è una soddisfazione come dire è stato scritto in un momento in cui i tempi erano diversi e poi fortunatamente sono cambiati è una riflessione nel senso che in quel momento chi come voi scrive chi si occupa di cinema ha dovuto fare un passo indietro fortunatamente adesso ci riaffacciamo io vorrei capire qual è l'esigenza che porta è stata un'esigenza quella di scrivere un film come 14 giorni era qualcosa di cui non si poteva fare a meno e lo dico anche per gli attori che evidentemente con una certa soddisfazione hanno lavorato questo progetto quindi io vorrei chiedervi il progetto 14 giorni come nasce e come l'avete portato avanti fino finalmente a fargli vedere il buio di una sala cinematografica buongiorno a tutti grazie molte per la domanda in effetti questo è un progetto che nasce dall'urgenza l'urgenza come sempre che ha chi racconta di cercare di capire qualcosa in più di quello che stiamo vivendo attraverso il racconto il racconto per me e anche per Monica è lo strumento attraverso il quale comunichiamo con gli altri e riflettiamo quello che ci sta accadendo durante il primo lockdown io e Monica che abbiamo una frequentazione continua nel senso che scriviamo immaginiamo storie elaboriamo perché il nostro modo di parlare con il mondo siamo stati privati anche della possibilità della vicinanza e quindi abbiamo cominciato ad avere queste session pomeridiane col telefono in viva voce in cui ci interrogavamo sulla possibilità di raccontare quello che stava succedendo abbiamo escluso subito la possibilità di raccontare il grande l'aneddotica tutto quello che succedeva a tutte le varie esperienze possibili e ci siamo concentrati su uno dei temi che ci interessano di più cioè l'amore la resistenza dell'amore cosa accade a una coppia che sta da 15 anni insieme che si sta lasciando e che è costretta a passare il periodo della quarantena cioè 14 giorni insieme questo ci sembrava che fosse importante perché ci consentiva da un lato di parlare del periodo che stavamo vivendo e dall'altro lato anche di farlo riflettere in una maniera diciamo interiore rispetto al racconto di coppie come se la fragilità estrema in cui tutti ci siamo scoperti immersi si riflettesse anche nella fragilità di questa coppia che deve fare i conti con un'intimità forzata ma anche con l'intimità che si è creata in questi 15 anni e che molto ha tolto e moltissimo ha dato a loro quindi abbiamo cominciato a scrivere devo dire da subito noi abbiamo cominciato abbiamo pensato a un libro fatto essenzialmente di dialoghi come una pièce teatrale e abbiamo pensato che gli interpreti ideali di Marta e Lorenzo dopo che li avevamo costruiti inventati eccetera potevano essere Carlotta Natoli e Thomas Trabacchi con cui io avevo lavorato per cui avevamo scritto insieme e con cui io avevo lavorato da regista precedentemente ma separati quindi appena è stato possibile i primi lettori di questo libro sono stati la mia editrice Elisabetta Sgarbi e la nave di Teseo i miei produttori Francesca Cima Carlotta Calori e Nicola Giuliano e loro due che erano stati ignari a vivere diciamo più o meno serenamente il loro lockdown e non sapevano che c'erano due persone che scrivevano su di loro da lì è cominciato un viaggio appunto verso che è ben descritto verso la luce insomma e poi verso il buio della sala cinematografica abbiamo girato il film quando il lockdown si è rallentato ma c'erano ancora una serie di restrizioni grazie a un protocollo che lo voglio sempre ricordare ha permesso all'audiovisivo di andare avanti e grazie a una produzione come la Indico con cui io lavoro dal mio primo film che ci ha dato la massima libertà e la massima fiducia per questo salto nel vuoto perché nessuno sapeva avremo voglia di vedere ancora una storia su quello che abbiamo vissuto ci riconosceremo in questa storia questa è una storia d'amore non è una storia di pandemia è la storia su quello che accade a una coppia costretta in qualche modo ad avere un tempo che le coppie che si lasciano non hanno mai è stato tutto speciale in questo film dall'inizio alla fine è stato speciale il coinvolgimento degli attori le prove che abbiamo fatto con loro come se fosse come insieme a Monica come se fosse una pièce teatrale il fatto che il film è stato girato effettivamente in 14 giorni e in senso cronologico dal primo giorno al 14esimo giorno è stato speciale l'investimento della produzione tutto fino alla nostra presenza qui e anche all'idea devo dire adesso grazie a Aimeon D'Arsa e alla Paramount Plus che questo film piccolo e che racconta una storia d'amore come tante in effetti abbia la possibilità di avere un pubblico così ampio e internazionale dimostrazione secondo me del fatto che si parla veramente al mondo quando si parla di se stessi e quando si parla nel piccolo e che come dire le operazioni fatte a tavolino non hanno mai la stessa sincerità e la stessa spontaneità di quando racconti qualcosa che appunto per ritornare all'inizio della domanda ti è urgente raccontare per chiedere anche a te stesso che cosa stai affrontando come essere umano nella tua relazione e questo improvvisamente diventa di interesse per il mondo esatto allora Ivan li ha citati però io ci tengo a salutare i produttori per Indigo Film Francesca Cima e Carlotta Calori e Paramount Plus Aimeon D'Arsa che sono qua con noi quest'oggi e devo dire grazie un giustamente applauso anche perché i film che sono urgenti poi bisogna avere anche il coraggio di farli uscire quindi grazie per questo allora io prima di passare a Thomas e a Carlotta a cui dobbiamo fare i complimenti per l'interpretazione e per la facilità con cui sono riusciti a portare questi due personaggi molto reali molto realistici sullo schermo cioè la facilità poi fino a un certo punto immagino ci siano stati delle cose però io chiedo a Monica perché voi siete partiti tu e Ivan siete partiti appunto dai dialoghi dialoghi che come dire funzionano voi avete scritto prima il libro che poi è diventato un film però bisogna vedere il passaggio da diciamo mezzo pagina a poi quando ci sono due persone in carne e ossa quindi trovare quel ritmo e riuscire a farlo intendere a farlo capire a farlo diventare loro ai due attori come avete lavorato diciamo dal punto di vista dei dialoghi perché ha un ritmo assolutamente irresistibile questo film prego prego allora sì è stato è stata una sfida fin dall'inizio il fatto di raccontare una storia solamente attraverso i dialoghi e quindi abbandonando le descrizioni abbandonando tutto quello che serve in genere per per raccontare una storia e per quanto mi riguarda è stato forse il lavoro più divertente più libero che che ho fatto insieme a Ivan negli ultimi anni perché un po' appunto per come ha raccontato lui è un è un libro e poi un film nato da un'urgenza e il fatto di provare a raccontare tutto quello che tutti questi personaggi che piano piano abbiamo conosciuto molto intimamente ne abbiamo parlato tantissimo li abbiamo fatti veramente nascere e vivere e poi riuscire a farli parlare solamente attraverso le parole è stato un esperimento per quanto mi riguarda molto molto esaltante veramente esaltante ed è stato molto esaltante quando poi queste parole sono state ci sono stati loro noi fin dall'inizio sapevamo che sarebbero stati Thomas e Carlotta però la prima volta me lo ricordo perché la prima volta che l'ho visti stavamo facendo le prove all'indigo e improvvisamente sono in carne ed ossa sono loro sono Marta e Lorenzo e come al solito anche se tu scrivi le cose le pensi le ripensi poi quando li senti quando senti che recitano quando sono loro prendono sempre una delle sfumature diverse prendono sempre ti sorprendono sempre e per me è stata una sorpresa una sorpresa emozionantissima quando loro hanno cominciato a diventare Lorenzo e Marta ed è stata una fase altrettanto importante della scrittura il fatto di fare le prove con gli attori che da un punto non è proprio una cosa scontata facendo la sceneggiatrice diciamo in genere a un certo punto abbandoni e tutto va in mano al regista invece in questo caso per quanto mi riguarda insomma è stata un'occasione abbastanza speciale ed è stato appunto esaltante fare le prove con loro che sono stati generosissimi devo dire e Marta e Lorenzo li hanno fatti diventare giganteschi passerei appunto a Marta e Lorenzo Thomas e Carlotta perché come abbiamo detto prima abbiamo ricordato il film è stato girato quando le misure si sono un po' allentate immagino quindi truppa ridotta un film così intimo si fa solo ed unicamente se la squadra è particolarmente coesa immagino quindi che il lavoro sia stato come dire differente rispetto alle vostre esperienze precedenti qua c'è cinema c'è teatro c'è letteratura e c'è appunto un nucleo più stretto di persone che lavorano a strettissimo contatto rispettando peraltro anche la cadenza naturale del film quindi i 14 giorni come diceva prima Ivan sono stati appunto i 14 giorni di ripresa un vostro commento su questa esperienza lavorativa partirei appunto da Carlotta io approfitto perché uno può levare la mascherina se stanno tutti si può uno alla volta allora buongiorno a tutti grazie grazie dell'invito grazie alla produzione che ha deciso di fare questo salto nel vuoto e grazie a a Ivan e a Monica che hanno sapientemente scritto questi personaggi purtroppo tutto quello che c'era da dire è già stato detto comunque adesso è talmente bravo Ivan io metterei un 10 e sbobbinerei la sua prima risposta e saremmo già a metà dell'opera però adesso mi sforzerò di dire qualcosa di intelligente anche io o di estremamente stupido come mi augurerei ma dunque la condizione di questo film è veramente molto particolare non mi è mai capitato di fare una cosa di questo genere se non forse i miei primissimi film con mio padre perché c'è una commistione di tanti aspetti c'è una vita diciamo una vita personale mia e di Thomas che inevitabilmente a livello energetico di gesti di movimenti entra nel film c'è un'amicizia di tanti anni con Ivan una grande grandissimo stima di tutti i collaboratori che hanno partecipato una troupe secondo me veramente unica 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 in termini di proprio di capacità di attenzione e chiaramente un gioco metalinguistico direi un gioco metalinguistico perché una coppia e poi si è creata anche una famiglia all'interno del set che piano piano seguiva questi questi personaggi veramente insomma io mi ricordo alcune battute dei fonici che venivano a dirci oddio ho vissuto una cosa oddio ma adesso cioè accumulavano energia anche loro poi tornare a casa in macchina insieme passare tanto tempo insieme continuare a litigare perché noi abbiamo sollevato delle energie e con quelle ci toccava poi avere a che fare fare la memoria per il giorno dopo e quindi questo è stato tutto un gioco nel gioco e forse una verità dentro un'altra verità dentro un'altra verità che rende questo film per me particolarmente emozionante forse direi i più emozionanti di tutta la mia vita da questo punto di vista perché sono emotivamente presenti tantissimi aspetti e una cosa che ci tengo a dire rispetto al ritmo ecco quando un attore ha la possibilità di avere a disposizione seppur in maniera un po' letteraria però un testo così ben scritto da un punto di vista del ritmo basta solo poi esserci anima e corpo no? questa è la cosa che io amo di più della scrittura di Ivan e di Monica che più volte mi è capitato di attraversare i giorni avevano una scansione ritmica anche all'interno dello stesso giorno c'era un'onda ritmica io e Lorenzo siamo due ritmi diversi e quindi bisognava solo incarnare quel ritmo in quei due ritmi diversi e stare dentro questa onda della giornata perché ogni giornata finisce in levare e io l'ho sentito veramente questo 14 giorni come se fosse ecco un concerto e l'ho anche penso interpretato così perché perché il ritmo ti regala molto ma a parte dalla scrittura non so se ho detto qualcosa io sono mi è piaciuto e mi trovo particolarmente d'accordo io avevo pensato che effettivamente sembra poi nella scansione dei giorni quello che dicevi tu che finisce in levare c'è come un'accelerata però era bellissimo quando alternativamente uno dei due metteva in folle e tipo tentava di stoppare l'altro che tentava di accelerare perché questo però fa parte lo diceva perfettamente prima Ivan è un riflesso di quello che tutti noi abbiamo vissuto tu parlavi di emozioni litigavate anche fuori dal set perché vi portavate quello che state recitando sul set anche nella vita reale che però avevamo vissuto effettivamente nella vita reale poco tempo prima perché tutti più o meno chi era fortunato per stare in coppia anche se poi magari si litigava e tutto però non eri da solo avevi effettivamente vissuto quello Thomas anche te una riflessione su questa esperienza che appunto abbiamo capito essere unica sì sì adesso mi unisco ai ringraziamenti a tutti ma no faccio ulteriori riflessioni intanto è molto bello essere qua e che rigalleggi il fatto cioè come noi abbiamo lavorato insieme c'era una frase che io e Carlotta ci siamo detti più volte e continuiamo a ridirci oggi che è molto semplice ma quando ci ricapita ma quando ci ricapita che mentre noi viviamo qualcuno scrive su di noi e noi siamo già dentro un progetto quando ci ricapita ci fanno leggere il libro insieme ai produttori o ai registi e quando ci ricapita di girare in sequenza perché ragazzi oggi a me non è mai successo e questa è una cosa siccome gli attori hanno quasi sempre diciamo un'esperienza teatrale anche in cinema tant'è vero che spesso ci facciamo delle pippe inutili perché noi viviamo il momento e a volte ci sfugge che lo stage il palcoscenico in cinema è fatto di quattro lati quindi non c'è bisogno di uno scivolo naturale naturalistico diciamo a inizio scena che ne so io entro in una stanza vedo lei e nella vita la saluto è buona educazione può essere che quel saluto al regista non gli serve perché già sa che il montaggio è superato ma questa però il fatto di girare in sequenza è una cosa che aiuta tantissimo gli attori perché dà quella soddisfazione che a volte al cinema non serve però all'attore serve sempre queste pippe io le ho chiamate inutili ma non sono mai inutili perché noi lavoriamo con queste nostre piccole storie micro storie o queste piccole sinfonie dentro un gioco un po' più grande allora questo è stato molto bello quindi quando ci ricapita allora la sensazione di essere stati chiamati da Ivan e Francesca abbiamo ancora una call insieme che è molto simpatica peraltro è stata proprio quella di ricevere un regalo in un momento tragico dove tutto sommato io devo essere onesto noi ce la stavamo passando bene perché io e Carlotta abbiamo una seconda casa molto piccola in campagna quindi non eravamo a Roma non sentivamo gli elicotteri io ho famiglia a Milano a Milano c'era una situazione veramente pesante e così al di là del fatto che noi ce la passavamo meglio di altri è arrivata questa proposta di lavoro tanto che poi io e Carlotta presi dall'entusiasmo abbiamo letto il libro e poi insomma noi non avevamo la certezza che la cosa con coraggio si concretizzasse e dice l'avevamo detto a Ivan e a Francesca vabbè ma facciamo la regia noi al limite se proprio vi tirate indietro questo così sono gli antefatti per il resto per il resto ok tutto bene però possiamo anche parlare è vero quello che dice Carlotta allora è raro anche lavorare con una troupe così sensibile e attenta io penso che i set sono un po' come i cani assomigliano al padrone ok cioè il cane assomiglia al padrone e questo set assomiglia a Ivan alla sua sensibilità a me capita di lavorare fortunatamente lavoro abbastanza e di vedere gli operatori di macchina col telefonino no o che sparano cazzate un attimo prima magari senza calcolare che tu stai facendo una scena dove devi piangere o dove devi far ridere e questo quando tutta la troupe lavora per la storia aiuta gli attori perché noi lavoriamo o con l'aria fritta o con la magia io preferisco la seconda secondo me è magia cioè io credo molto nell'energia e credo molto nell'indeterminatezza della realtà e allora se l'operatore di macchina l'assistente al direttore della fotografia fa il tifo per me conosce la storia gode del fatto che io posso fare bene o posso fare male mi sta dando una grande mano a un livello molto sottile questo è avvenuto ogni giorno e quindi che vi devo dire appunto ma quando ci ricapita ragazzi io non avevo molto domande dalla stampa presente in sala io approfitto allora questo punto per chiedere a Ivan e a Monica a me è piaciuto il fatto che questi 14 giorni che inizialmente vengono vissuti quasi come un incubo perché due non si sopportano c'è qualcosa di terribile in mezzo a loro tradimenti l'obbligatorietà di stare nello stesso ambiente anche se non ci si sopporta però come dire questi 14 giorni sono in realtà un regalo cioè c'è uno switch un cambio di prospettiva quando dicevamo tipo ne usciremo meglio quella cosa quella frase che è terrorizzante risentirla oggi però effettivamente si può anche vedere in quel modo cioè è un'opportunità in più è sicuramente un'occasione che viene data a questa coppia un'occasione unica perché insomma appunto un po' a tutti è capitato di lasciarsi molto spesso avviene in modo così traumatico ci si lascia e basta si prende la porta e si va via perché poi è molto difficile confrontarsi perché poi è molto difficile tirare fuori le cose quindi spesso il modo di lasciarsi è forte ed è abbastanza secco ecco Lorenzo e Marta invece si trovano a vivere una situazione del tutto anomala sono costretti a stare insieme quindi sono costretti a guardarsi dentro e anche a raccontarsi delle cose che probabilmente non si sarebbero mai raccontati se effettivamente Lorenzo avesse preso quella porta e se ne fosse andato via e questa in questo senso è una grandissima opportunità che viene data alla coppia per riuscire a comunque comunque vado a finire per riuscire a capirsi veramente per riuscire a trovare dentro di loro un motivo se c'è per continuare ad andare avanti oppure per lasciarsi ma insomma perlomeno vanno fino in fondo quindi sì è assolutamente un'occasione che gli abbiamo dato sullo stesso Ivan sicuramente sì sono assolutamente d'accordo con quello che riguarda Monica c'è anche un discorso in qualche maniera ulteriore sul tempo questo tempo per loro diventa un regalo e siccome questo film misteriosamente incrocia poi anche nel momento in cui quasi magicamente direi adesso incontra il suo pubblico in sala e poi anche oltre la sala io ho sempre pensato che fosse un film sull'intimità e ho capito che è anche un film sul tempo sul riappropriarsi del tempo sul tempo necessario per capire le cose e questo è qualche cosa che abbiamo acquistato fuori scena il nostro sguardo oggi di guardare il film il pensiero di come l'abbiamo fatto il pensiero di questo tempo regalato a questa coppia ma anche il pensiero di come noi adesso dargioniamo dopo il grande spavento ma convivendo però tuttora con un grandissimo senso di fragilità come noi ragioniamo con il tempo il tempo che abbiamo a disposizione il nostro modo di usarlo il nostro modo di guardare negli occhi dell'altro ecco quello che mi fa particolarmente piacere e che mi colpisce che questo è un film molto di parole ma ovviamente e l'abbiamo detto ma è anche molto di sguardi loro si guardano con una sensazione diversa del tempo si guardano negli occhi che è una cosa come si dice la più impudica al mondo però con un senso diverso ora abbiamo un tempo diverso credo che questo al di là del regalo che questa clausura fa a Marta e Lorenzo nel film è forse uno dei più grossi cambiamenti io credo in positivo che abbia portato questa sensazione insieme a questo sentimento di fragilità con cui ancora dobbiamo imparare a convivere insieme a queste giornate stravolte da mille pensieri c'è una sensazione diversa dello scorrere del tempo e questa è una specie di magia che il film ha portato con sé ulteriore perché quando noi l'abbiamo girato pensavamo in qualche modo di cronicizzare di raccontare quel momento che sarebbe stato come un documento che avrebbe raccontato che in quel momento succedeva anche questo che in quel momento per alcune persone questa clausura poteva essere un regalo adesso mi sembra che dica qualche cosa diverso che non è solo quel momento che è una sensazione di fragilità decuplicata della vita cambi il modo delle persone di stare con se stessi e con gli altri il cinema serve anche appunto a riflettere non solo su quello che abbiamo vissuto ma anche sul contemporaneo il titolo del film è 14 giorni nasce come libro edito da La nave di Teseo è il primo film italiano Paramount Plus Original lo accompagnano i produttori Indigo Film Francesca Cima Carlotta Calori per Mount Plus Aimeon Darza abbiamo avuto la fortuna di avere con noi quest'oggi al tavolo i due interpreti del film Thomas Trabacchie e Carlotta Natoli e soprattutto Ivan Cotroneo e Monica Rametta sceneggiatori scrittori del libro e Ivan anche regia grazie mille per essere stati con noi quest'oggi buongiorno amici allora siamo arrivati alla ultima conferenza stampa di quest'oggi conferenza ovviamente attesissima è inutile che io vi spieghi il motivo il film che presentiamo fuori concorso The Girl in the Fountain di Antonio Giulio Panizzi a cui diamo il benvenuto protagonista Monica Bellucci grazie Monica per essere qua con noi grazie allora il film è uno strano oggetto cinematografico io sono molto contento di presentarlo perché è una ovviamente al Torino Film Festival che come sapete l'abbiamo ripetuto più volte in questi giorni è una vera e propria piattaforma dove si riflette sul cinema e il film di Anton Giulio parte da uno studio fatto con estremo amore nei confronti di una diva del cinema Anita Ekberg utilizzando un'altra diva del cinema Monica Bellucci per riflettere su quello che vuol dire essere una diva vuol dire recitare vuol dire vivere di cinema e vuol dire essere appunto Monica Bellucci un film dove la sovrapposizione delle figure risulta particolarmente evidente Monica ha fatto un lavoro secondo me eccezionale e parla proprio di quello che noi abbiamo più a cuore il cinema io partirei proprio chiedendo a Anton Giulio di raccontarci dove nasce questo progetto come nasce e come nasce questo straordinario atto d'amore nei confronti del cinema allora è un progetto che nasce molto tempo fa la volontà di raccontare la storia di Anita Ekberg di Paola Jacobi e Camilla Paternò che si è incontrata con la Dugong Films di Marco Alessi e Marta Tagliavia che sono una piccola casa di produzione che esplora i confini tra la finzione reale mi hanno coinvolto e abbiamo capito proprio studiando la figura di Anita Ekberg che già ci sembrava molto affascinante che forse la maniera migliore di raccontarla era raccontarla attraverso gli occhi di un'attrice di oggi anzi di una diva di oggi quindi mi ricordo proprio dei che uscì il nome di Monica Bellucci e tutti fumo subito convinti l'unica paura è che Monica forse non avrebbe accettato invece Monica ha accettato subito con entusiasmo diversamente da quello che si vede nel film e dopo una mail che noi abbiamo mandato molto stringata lei aveva già una visione del film quindi per noi è stata una collaborazione ancora più prolifica quella di lavorare con una persona che si è messa così in gioco e ha analizzato se stessa e Anita Ekberg in maniera così profonda diciamo allora visto che Anto Giulio mi dà la possibilità di citare in prima fila Camilla Petronosci ineggiatrice Paolo Giacobbi che è autrice del film Max Casacci che ha curato le musiche Marta Travaglia Marco Alessi per Dugong e Serena Petrucci per Perigolo il film come dicevamo è un documentario a una parte di ricostruita dove si vede appunto la proposta che arriva a Monica di diventare Anita Ekberg e dopo che si sentono un po' si assiste al lavoro che fa Monica per diventare Anita Ekberg c'è un momento di trasformazione realmente emozionante ma soprattutto c'è una riflessione che Monica fa sull'essere attrice essere diva prima Anto Giulio citava la parola diva ho visto che Monica non era esattamente contenta però è sempre così però deve accettarlo è una diva però io ero proprio quello che volevo chiederti Monica perché si parla di bellezza parlando di Anita Ekberg di di spregiudicatezza che la porta ad arrivare in America molto giovane di talento innegabile di estrema e forte personalità che sono forse degli elementi che definiscono poi qualcosa che è indefinibile cioè l'essere diva le dive sono pochissime e si diventa diva per un motivo che forse è insondabile io penso che tu ti sia fatta un'idea nella tua carriera e nel tuo lavoro nella tua vita di come si diventa una diva e perché si viene chiamata diva ma io penso che sia il pubblico che decide cosa fa di te nel senso che come attrice tu fai i tuoi film fai le tue scelte ma poi quello che il pubblico recepisce del tuo lavoro è qualcosa che ti sfugge completamente quindi a un certo punto il pubblico fa di te qualcosa che che tu non puoi assolutamente né decidere né programmare perché una carriera non si programma a tavolino e puoi fare tutti i programmi che vuoi ma ti sfuggono perché non è che tu hai il controllo di cosa pensa al pubblico di cosa pensa la stampa e per quanto mi riguarda io dico sempre che quello che mi accade è la possibilità di fare le scelte e questa è una grande fortuna nel senso sono qua oggi perché Anton Giulio con le sceneggiatrici hanno pensato a me e quindi mi hanno proposto questo progetto e io ho detto sì quindi è importante che vengano le proposte poi è certo di tuo c'è che quando ti piace un ruolo io di solito quando faccio una scelta vado di pancia nel senso mi deve partire veramente l'istinto e poi c'è tutta la costruzione infatti questo film è proprio cosa racconta racconta il processo proprio di costruzione il processo che c'è nel lavoro di un'attrice per interpretarne un'altra ci sono due ruoli in questo film recito me stessa che interpreta un ruolo è per questo che voglio difendere subito Anita Eckberg in primis perché quando si diceva che Anita Eckberg rappresentava sullo schermo se stessa e quindi non era un'attrice per interpretare se stessi bisogna essere una brava attrice quindi lei assolutamente e poi viene anche detto nel film nel momento in cui lei ha fatto se stessa è forse stata la condanna cioè quello che viene fuori che secondo me è un tema molto interessante che il motivo per cui tutti la ricordano è forse quello che lei in un certo punto della sua carriera poi ha cominciato a infastidirla quindi recitare se stesse o essere inquadrate come se stesse in quel caso ha portato poi a una sorta di sconfitta penso che la sua carriera la sua vita anche di donna è legata ad un periodo ben preciso che è quello del dopoguerra oggi non so se sarebbe accaduto la stessa cosa nel senso che questa bellezza esplosiva bionda arrivata in un'Italia in cui le donne erano ancora relegate ad una realtà che era proprio quella familiare domestica quindi questa donna così libera indipendente penso che rappresentasse una femminilità che sicuramente faceva paura e anche che ha suscitato tanto interesse e tanta curiosità con cui lei ha giocato senza rendersi conto che stava facendo un gioco molto pericoloso oggi è diverso perché comunque un'attrice può avere una carriera molto lunga pur non essendo sì e quindi siamo davanti a a delle ed è per questo che penso che questo film è interessante proprio perché ci fa leggere un un discorso di confronto fra il passato e il presente un discorso di due star system diversi e anche un modo di vedere la donna e le attrici che è completamente cambiato penso che Anita Heckberg è stata comunque una donna vittima del suo tempo un periodo molto creativo certo rispetto era un momento completamente esplosivo per il cinema quello non eravamo nel dopoguerra il boom economico il boom esplosivo di tutti i più bei film italiani che ancora oggi sono punto di riferimento per il cinema mondiale ma certamente un periodo non semplicissimo per le donne soprattutto quelle che non avevano un uomo al fianco anche quello è un tema che viene trattato nel film di Anton Giulio The Glory in the Fountain c'è un lungo capitolo diciamo su alcuni dei mariti o degli uomini che hanno accompagnato Anita Heckberg Anita Heckberg che appunto viene ricordata principalmente per la scena della Fontana di Trevi ma che comunque ha potuto lavorare con King Vidor è stata conosciuta grazie a Howard Hughes ha lavorato con Dean Martin Jerry Lewis è inutile che vi stia fare i nuovi io chiedo dalla stampa presente in sala se ci sono domande per Anton Giulio o per Monica Bellucci prego buongiorno ci sono dei complimenti o comunque professionalmente Fellini è stato capace di capire Anita Heckberg c'è un autore che è stato capace di capirti così e che cosa ti ha detto che ti ha fatto capire che appunto aveva capito chi professionalmente aveva davanti grazie non penso che posso parlare di un solo film no penso che il mio percorso è stato un puzzle fatto veramente di incontri molto importanti che mi hanno permesso di poter accedere ad un percorso così interessante almeno parlo veramente da un mio punto di vista personale senza poi pensare al risvolto pubblico del mio percorso ma solo personalmente il fatto di aver lavorato con registi così diversi e poi anche così diciamo anche di carattere c'è il regista che arriva che sa quello che vuole e che ti chiede di seguirlo e c'è il regista che fa la collaborazione con te e poi quindi tutti i modi diversi in cui penso che la capacità delle attrici è proprio quella di sapersi adeguare all'atmosfera che ha intorno io non ho avuto mai grandi conflitti con i registi con cui ho lavorato devo dire forse perché nel momento in cui accetto di entrare in un universo artisticamente faccio in modo che perché cerco di prendere veramente quando dico sia un regista sento 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 veramente il talento ed è lì che io creo la comunicazione con quella parte alta no bella e fortunatamente ho incontrato tante persone di talento da Anton Giulio a a molti registi con cui ho lavorato e non posso parlare di un solo film sono tanti e tutti importanti in un modo diverso penso anche che sia la fortuna per chi lavora con Monica Bellucci visto che Monica Bellucci è fatta della materia di cui è fatta il cinema quindi quando tu fai il regista hai Monica Bellucci e riesci a fare il cinema io volevo chiedere a Monica approfitto perché nel film c'è una una lenta trasformazione che passa poi ad un certo punto anche per una trasformazione fisica che comincia con delle lenti azzurre che passa poi per delle parrucche e che poi arriva fino a dei gesti c'è una sequenza molto bella in cui tu impari dei gesti da diva il movimento con cui Anita Egberg nella pubblicità con la oddio Fred Buscaglione grazie scusate il cervello gioca dei butti scherzi però è appunto come diceva lei è un processo cioè faccio me stessa che tenta di diventare Anita Egberg in un film che mescola finzione e documentario documentario e finzione quindi io ti chiedo come è stato proprio quel processo cioè riuscire ad essere così brava per fare questo passaggio e farlo passare come quasi naturale non ho fatto mica da sola c'era tutto infatti il film è proprio questo si vede proprio il lavoro con il regista il lavoro con la coach il lavoro con il parrucchiere il truccatore con i costumi tutto quello che serve per costruire esteriormente un ruolo e poi a un certo punto c'è una specie di piccola magia nel film che è per me la chiave d'accesso vero di questa attrice con il ruolo che interpreterà e che è il momento del sogno questo momento onirico che poi è un po' come abbiamo detto un clan doi a Fellini che comunque aveva un rispetto così grande per i sogni c'è anche un libro bellissimo che parla appunto dei sogni di Fellini che i suoi film partivano dai suoi sogni e infatti a un certo punto si vede questa attrice vestita di bianco che entra in questa casa che era la casa vera di Anita Eckberg e a un certo punto in questo giardino dove ci sono i suoi cani vede questa bambina meravigliosa bionda ed è un momento ma è come se di colpo l'attrice può per un secondo sfiorare l'anima di questa attrice e quella è la chiave di entrata di accesso dove ogni attore ha la sua chiave altre domande dalla stampa dalla sala perfetto io approfitto allora questo punto per invece fare una domanda ad Antonio Giulio Bonizzi visto che il film è uno straordinario lavoro anche di ricostruzione d'archivio peraltro prima abbiamo citato Buscaglione abbiamo anche la fortuna di avere Mascadacci che ha curato quindi anche la ricerca musicale c'è un lavoro molto attento perché la storia di Anita Egberg che si mescola con la storia italiana è puntuale e serve a dare anche mano a Monica per costruire il suo personaggio sì esatto con la rivoltura di ricerca tutta Anita prima della Dolce Vita era qualcosa di molto affascinante c'era una prima versione che durava quella parte durava 40 minuti perché eravamo tutti affascinati da Anita negli show televisivi americani Anita appunto nel backstage di Tashlin eccetera e questa cosa è servita molto anche a Monica infatti il mio lavoro con Monica è stato di studio di cercare di capire intivamente Anita di far e mostrare a Monica il materiale di Anita man mano che noi lo trovavamo ecco quindi è stato un lavoro anche psicologico d'attore diciamo così Max Casacci invece quello che io pensavo era che noi non volevamo cioè secondo me era un film che non aveva bisogno di musiche melancone doveva essere qualcosa di contemporaneo di elettronico io sono un fan di Subsonica ero ho conosciuto il lavoro di Max Casacci perché è venuto ospite a una trasmissione in cui collaboro come autore e ovviamente pensando alla musica elettronica Max Casacci è venuto in maniera naturale lui ci ha stupito campionando i suoni di Monica e facendo una canzone che io ho messo sopra la camminata dell'Eur che è Roma e Monica e Anita insomma è una cosa abbastanza densa infatti lì è proprio un momento anche lì di perfetta sintesi nel senso che c'è veramente tutto tornando al lavoro fatto da Monica immagino che nello studio che ha evidentemente fatto di Anita Egberg c'è stato un momento di innamoramento e un momento di non dico di timore però nel momento in cui faccio riferimento al film nel momento in cui ti togli la parrucca bionda dopo essere provata e messa si crea un distacco come dire naturale è talmente intimo il lavoro che hai fatto sei entrata talmente dentro alla storia alla personalità di Anita Egberg che a un certo punto tocca fare un passo indietro sì perché comunque si accede a qualcosa di talmente importante come toccare un mito per cui bisogna andarci veramente con una sensibilità estrema e poi c'è sempre paura e forse togliere quella parrucca è anche dire ho imparato tanto e non voglio non voglio essere voglio essere Anita Egberg sì nello schermo ma non nella vita mi sareste piaciute quindi? penso di sì penso di sì malgrado le differenze penso proprio di sì viene citata la la vena di tristezza di malinconia che a un certo punto avvolge Anita Egberg ma è anche vero nel che nel film viene fuori un suo spirito estremamente umoristico estremamente simpatico che mi sembra tu abbia peraltro colto perfettamente c'è un duetto con chi è chiamato a interpretare il marito il secondo o terzo marito di Anita Egberg dove il limite tra realtà finzione e recitazione si fa sempre più labile ma è estremamente simpatico estremamente divertente e anche lì appunto sono quelle due anime divise ma che tu riesci a mettere assieme ma giustamente è tutto un gioco di finzione e realtà e questo gioco anche con gli uomini questi uomini che hanno rappresentato per lei molti un grande dolore come diciamo sempre il problema di Anita è proprio fare una differenza fra il vero amore e il finto amore questo desiderio che lei provocava questa curiosità che veniva scambiata per amore e molte volte anche gli uomini della sua vita hanno usato hanno usato questa sua luce per prendere luce e e lei non l'ha visto non ha visto tante cose in effetti della sua vita e l'ha visto quando era troppo tardi è stata una donna trofeo e l'ha pagato molto caro e per questo che ecco come dicevamo anche prima insomma questo momento anche con l'arco e le frecce è un momento di metafora come dire abbiamo imparato grazie a te Anita a usare l'arco e le frecce che metaforicamente parlando vuol dire abbiamo imparato a difenderci anche questo è un tema che viene trattato l'ha anticipato prima Monica parlando di uno star system che è cambiato di un rapporto di potere anche forse che è cambiato tra gli uomini e le donne che fanno cinema produttori attori registi attrici o dive io ti chiederei se è possibile di ampliare un po' questo discorso perché appunto si racconta un pezzo di storia del cinema italiano la Hollywood sul tevere che ha modificato inevitabilmente anche il nostro star system fino ad arrivare ai giorni nostri in cui la discussione sul potere esercitato da uomini e su donne diventa centrale e anche questo mi sembra uno dei temi toccati da The Girl in the Fountain Sì è il discorso che abbiamo iniziato proprio all'inizio di questa di questa bella riunione sì c'è proprio una differenza come dicevamo in cui molte donne facevano parte di un sistema ma anche a Hollywood dappertutto era proprio un sistema in cui le donne erano diciamo non potevano fare tante cose perché erano sotto conto tratto o comunque una donna non esisteva senza un uomo che fosse sia pubblicamente e privatamente piano piano ecco stiamo ancora oggi uscendo da quella situazione e lo dico senza nessun tipo di di guerra assolutamente perché a me non piace la guerra penso che siamo sia noi donne e sia gli uomini siamo estrazione di tutta una cultura secolare che piano piano si sta sgretolando davanti ai nostri occhi e tante situazioni diciamo anche di comodo che forse avevamo noi perché tante situazioni erano brutte ma anche di comodo dobbiamo dobbiamo piano 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 cambiare direzione sia noi che gli uomini dobbiamo stiamo crescendo stiamo evolvendo in una società che sta cambiando completamente con nuove regole ed è difficile per tutti anche per noi donne adeguarsi a qualcosa che è completamente nuovo però è difficile ma anche bello perché noi donne siamo sempre più nel sociale e gli uomini capiscono anche piano piano cosa vuol dire stare a casa occuparsi dei figli far cose che prima non facevano e anche credo che gli uomini un pochino non hanno solo cose negative da questo cambiamento per niente perché è come se finalmente si togliessero questo peso di essere maccio a tutti i costi che è un peso che hanno gli uomini e cominciano da quando sono bambini che nel momento in cui vogliono giocare con una bambolina e pettinarli si toglie la bambolina e si dice no questo non si fa e le donne che vogliono giocare con la macchinina del fratello si dice no ma questo non si fa non si dice più alla bambina tu devi fare il ricamo non ci sono più questi ruoli che sono così abbiamo capito che noi abbiamo in noi una parte che attiva e gli uomini hanno una parte femminile che è un altro tipo di esprimersi quindi c'è un altro modo di guardare gli umani che è molto importante bella e che sta cambiando il corso della società giustamente visto che appunto si parla di fluidità di generi inizia il film alla fontana di Trevi e inizia con una sequenza al contrario che mi ha colpito perché dà al film un taglio come diceva Monica giustamente prima anche onirico ci sono dei momenti in cui in un'analisi così puntuale profonda e documentaristica di quello che racconti Antonio Giulio però ti permetti anche di avere dei momenti un po' di batteria un po' di follia una sequenza al contrario una sequenza onirica una citazione testuale del gesto dell'arco e delle frecce finale che lascia al presagire come dire una sorta di rinascita hai giocato veramente con molti generi con molti linguaggi e hai trovato un equilibrio che immagino non sia stato così facile da trovare è stato appunto è stato un giocare con molti generi molti linguaggi anche a volte ci scherzavamo su questo fatto perché era sempre uno sperimentare era sempre qualcosa che ci divertiva quindi Monica che passeggia all'Eur a un certo punto diciamo qui stiamo facendo una cosa completamente diversa da quello che abbiamo fatto prima però siamo andati avanti e poi in montaggio tutto ha avuto un senso tutto ha preso un senso anche con la sovrapposizione di suoni e di immagini quindi scene di Anita l'audio di scene di Anita che andavano su delle scene che abbiamo girato di Monica appunto scardinare questa idea di un semplice documentario ma che non è neanche finzione però è un ibrido proprio sta lì nel mezzo e la cosa che ci fa più piacere è quando scambiano me per Roberto De Francesco cioè dicendo credevo che fosse lui il regista oppure un'altra persona mi ha detto ah Monica all'inizio non voleva fare il film no veramente lì era finzione quindi questa cosa ci piace molto e anche le parti molto documentaristiche per esempio la conferenza stampa di Enna abbiamo messo quella piccola finzione facendo dire a Monica mi hanno offerto un ruolo quando nessuno ancora avevo offerto niente quindi ecco è stato un gioco che ci ha molto divertito si vede si sente allora accompagnano il film The Golden The Fontaine la sceneggiatrice Camilla Paternò l'autrice Paola Iacobbi Max Casacci curatore delle musiche Marta Tagliavia di Dugong insieme a Marco Lessi sempre di Dugong Serena Petrucci per Eagle abbiamo avuto la fortuna di avere con noi al tavolo Anton Giulio Panizzi e ovviamente Monica Bellucci grazie 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 Grazie.